Noi ci siamo tutti. Benvenuti, iniziamo la seconda parte del convegno interventi a breve e lungo termine per il miglioramento del benessere, dell'efficienza e della qualità delle produzioni dei bovini da latte della Lombardia, nell'ambito del progetto Bene Latte. È il secondo giorno e iniziamo con una variazione del programma, semplicemente l'ultimo intervento del professor Aimone, slitta al primo e poi a scalare faremo pure gli altri, per un problema diciamo di opportunità e di impegni. Per cui ti do la parola, 30 minuti. Grazie, grazie mille. Grazie innanzitutto a Andrea Rosata e gli altri relatori che hanno permesso questo cambiamento. La mia relazione è portata sulla genomica e sul biomarcatore di stress nella bovina da latte. Questi sono i risultati di questo progetto Bene Latte, che è un progetto finanziato dalla regione Lombardia e che ha visto collaborare in modo molto fruttuoso l'Università Cattolica, l'Università di Padova, dei studi di Padova e il CNR di Milano. Abbiamo visto ieri, mi collego quanto è stato fatto ieri, che ovviamente il benessere e lo stress e il benessere ovviamente sono estremamente collegati e abbiamo visto che la condizione di benessere effettivamente dipende da tre fattori, una è la fisiologia degli animali, l'ambiente degli animali e il livello di capacità manageriale degli allevatori al fine di ridurre o controllare lo stress delle bovine da latte. È chiaro che in caso di stress ci sono delle inefficienze dal punto di vista delle produzioni con da un lato ripercussioni negative sulla salute, sulla riproduzione e sulla produzione ma anche sull'impatto ambientale, cioè chiaramente animali in condizione di benessere scarso sono meno efficienti e quindi per unità di prodotto o per unità di prodotto utile e come si vuole calcolare oggi hanno un impatto ambientale maggiore. Ecco, tutto parte, questo studio che è stato fatto in Benera, da studi precedenti essenzialmente da un progetto che si chiamava Gen2Fen, che era un progetto PRIN finanziato dal Ministero condotto in collaborazione soprattutto con l'Università di Udine. In questi studi precedenti abbiamo analizzato pezzate rosse e frisone e abbiamo studiato, valutato l'associazione tra questi marcatori già abbiamo usato un chip da 120.000 SNIP con una serie di parametri metabolici legati a stress stress metabolico, stress ossidativo, infiammazione e erano particolarmente, i risultati particolarmente interessanti sono saltati fuori, diciamo, dall'associazione con tre marcatori di stress o biomarcatori di stress la gamma glutamin transferasi, la celluloplasmina e la paroxonasi che abbiamo visto anche ieri essere protagonisti per la stima proprio della condizione di benessere degli animali. E effettivamente i marcatori associati a questi biomarcatori, quindi la produzione, il fenotipo era proprio la produzione di proteina nel sangue, quindi la quantità di proteina del sangue, i marcatori associati sono risultati molto ma molto vicini ai geni che sono responsabili per la produzione di questi biomarcatori. Per esempio, questi sono stati fatti diversi tipi di analisi, questa è la posizione sul cromosoma 4 del gene PON1 che codifica per la paroxonasi e questi sono i marcatori significativi, in rosso sono quelli della pezzata rossa, scusate, in nero sono quelli della frisona. La notazione di differenza è dovuta al fatto che quando ci sono i rettangoli sono dell'associazione con gli aplotipi, con degli aplotipi ai marcatori, quando ci sono i singoli marcatori sono i singoli marcatori. Stessa cosa per la celluloplasmina sul cromosoma 1 e per la gamma glutamiltransferasi sul cromosoma 17. La cosa che ha dato forza a questo tipo di associazione è il fatto che in due razze diverse completamente indipendenti avessimo trovato in tutti e due i casi associazioni con i marcatori e in vicinanza vicino ai geni che codifina. Questo suggerisce che le differenze che ci sono nella produzione di questi biomarcatori abbiano una base genetica, ma abbiano anche una base genetica estremamente semplice, che alla fine ci siano, non so, va avanti da solo, ci siano due alleli di questi biomarcatori, dei geni per biomarcatori, che effettivamente abbiano un livello di espressione diverso. Questi biomarcatori hanno dei livelli che sono indicatori di stress, per esempio, secondo dati di letteratura, qui c'è il professor Bertone e il professor Trevisi che sono protagonisti ovviamente in questi tipi di studi, sono stati anche dei precursori dell'utilizzo di questi biomarcatori, ma ceruloplasmina sopra il 2,5 unità di litro sono già condizioni di attenzione, come una paraxonase troppo bassa, come una gamma glutamiltransferase troppo elevata. Allora, abbiamo fatto un'analisi SWOT per capire quali fossero poi le opportunità di utilizzo e le debolezze di questo tipo di approccio che abbiamo utilizzato. Come vi dicevo, la parte di forza è dovuta al fatto che abbiamo trovato segnali simili in due razze geneticamente indipendenti, questo fa sì che i segnali che abbiamo avuto probabilmente non sono segnali spuri, ma sono segnali veri. E nelle vicinanze dei geni codificanti, quindi controllo genetico semplice. Le debolezze erano che comunque stavamo lavorando in diverse aziende con forti effetti ambientali, avevamo dovuto scartare molti animali con altre cellule somatiche, per cui potrebbe esserci anche un effetto dovuto a condizioni, diciamo, di forte stress. Comunque questi sono stati scartati dall'analisi. E poi alla fine per quelle che si chiama GWOS, quindi queste analisi di associazione, avere 300 animali per razza, insomma, era un po' un limite inferiore. È chiaro che questo dipende, la capacità di identificare dei segnali, dipende anche dalla complessità del controllo genetico del carattere e dall'effetto dei singoli geni che possono influenzare il carattere. L'opportunità è che questo controllo genetico, se è vero che è un controllo semplice, se è vero che, anzi, questo si sa che sono indicatori di benessere, avrebbe potuto offrire l'opportunità di fare una selezione molto semplice per i caratteri che sono essenzialmente difficili da misurare, perché comunque c'è bisogno di un'analisi del sangue che adesso abbiamo visto ieri che forse alcuni di questi possono essere prediti col NIR, a questo punto potrebbe essere diverso che questa, una misurazione più semplice, ma in generale per adesso sono difficili da misurare. E le sfide, insomma, le cose da vedere erano la ripetibilità dei risultati, se questa differenza di espressione e di controllo genetico fosse vero in animali come avevamo raccolto, avevamo raccolto dati in animali allevati lungo la lattazione con giorni di dilatazione diverso, se questa differenza era vera anche in animali che erano sicuramente sotto stress. Oltretutto per utilizzare marcatori per la selezione è importante sapere qual è l'effetto della selezione non solo sui caratteri target, ma su tutti i caratteri, perché se per esempio un buon marcatore per la celluloplasmina è associato poi a una riduzione della fertilità degli animali, chiaramente sarebbe un marcatore da non usare. E poi se l'effetto è sufficiente per giustificare una selezione. si è bloccata. Ok. E qui parte, inizia il progetto Benelat di cui abbiamo già sentito parlare ieri con l'analisi di un migliaio di frisone, quindi aumentando, triplicando essenzialmente la dimensione del campione. Ovviamente questi animali non possiamo dirli indipendenti dal campione di frisone e del campionato Udine, perché comunque c'è un grande livello di parentela in tutta la razza frisona. Per cui non consideriamoli indipendenti, ma un campione più elevato. E abbiamo utilizzato anche uno chip che è leggermente diverso. Abbiamo guardato gli stessi, cercato l'associazione con gli stessi biomarcatori di stress nel sangue, stress metabolico, infiammatorio, di funzionalità epatica e ossidativo. Abbiamo avuto come target principale la ceruloplasmina, la GGT e la paroxonasi, quelli che avevamo trovato significativi della volta precedente, ma vi sottolineo, vi anticipo il fatto, che abbiamo trovato delle associazioni anche, in questo caso, con la fosfatasi alcalina e con lo zinco. Abbiamo utilizzato questi 100.000 marcatori, dopo pulizia dei dati abbiamo questo dataset finale, siamo sempre stati molto rigorosi, quindi abbiamo tolto molti marcatori e anche diversi animali che avevano un comportamento di tipo outlier in questa fase che chiamiamo fase 1. Quindi la fase 1 è l'analisi della mandrea in diversi stadi della datazione. Dai dati genomici abbiamo controllato che non ci fosse una struttura genetica particolarmente definita della popolazione perché quindi gruppi di animali molto più vicini tra loro rispetto agli altri perché questo poteva indurre delle distorsioni poi nei risultati. Abbiamo usato un modello per valutare l'associazione tra marcatori e proteine e l'espressione delle proteine nel sangue e con effetti fissi abbiamo utilizzato il numero di lattazione il BCS la stagione del campionamento i giorni di lattazione e la produzione di latte. Quindi abbiamo corretto i dati per tutti questi fattori che potevano indurre una certa variabilità che non era dovuta all'effetto del genotipo. Abbiamo poi fatto tre tipi di analisi con i singoli marcatori con il singolo marcatore con gli aplotipi gli aplotipi sono diciamo in modo molto approssimativo sono dei pezzetti di cromosoma una serie di marcatori che sono legati tra loro che definiscono quindi dei pezzetti di cromosoma che sono in segregazione oppure abbiamo utilizzato degli strategie che concentrano i segnali che vengono identificati su alcuni che si chiamano features del genoma in questo caso le features che abbiamo scelto sono i geni cioè abbiamo raggruppato e condensato a livello dei geni dei 20.000 geni del genoma bovino questa informazione e abbiamo confermato sicuramente la paroxonasi vedete questo è un plot che si chiama Manhattan questi sono tutti i cromosomi ogni pallino è un marcatore e il diciamo questa è la probabilità che il il marcatore sia associato casualmente al carattere vedete che la probabilità che in questo punto sul cromosoma 4 ci sia un'associazione casuale molto bassa è uguale a 10 alla meno quasi alla meno 20 insomma quindi i picchi che oltrepassano questa linea rossa sono picchi significativi e proprio qui sul cromosoma 4 in corrispondenza di questo picco c'è proprio il gene della paroxonasi c'è anche un altro segnale sul cromosoma 16 che quindi in modo indiretto in qualche modo contribuisce all'espressione della paroxonasi stessa cosa con un'analisi diversa che è l'aplotipo e con l'analisi basata sul gene ci dice proprio che la PON1 questo gene della paroxonasi è diciamo quello più probabile di tutti per essere responsabile di questa diversa espressione della proteina stessa cosa per GGT non vi ripeto sono esattamente la stessa cosa vedete che in questo caso c'è proprio solo un singolo segnale in corrispondenza dei gene GGT1 e GGT5 stessa cosa per la celluloplasmina invece non abbiamo avuto una conferma dell'espressione del controllo genetico in questa popolazione possono esserci diverse spiegazioni una di queste potrebbe essere che semplicemente la scelta dei tori in questa azienda è stata tale per cui i tori scelti non sono in segregazione quindi non sono eterozigoti per queste due forme della celluloplasmina per cui il segnale non si vede l'alternativa è che in realtà come vi dicevo il segnale precedente fosse un'associazione spuria questo può accadere soprattutto quando c'è un campionamento di pochi animali abbiamo poi trovato la stessa cosa stessi segnali per la quindi stessa associazione per la fosfatasi alcalina e la fosfatasi alcalina è proprio qua sul cromosoma 2 stessa cosa e abbiamo trovato anche un segnale sempre sul cromosoma 2 ovviamente non corrispondente a quello precedente per lo zinco e questa è una cosa interessante ci sono due geni che possono essere associati a questo segnale e sinceramente non abbiamo ancora cercato e magari lo cercheremo insieme a professor Trevisi e a professor Cecchinato di comprendere quali possano essere i meccanismi per cui lo zinco ovviamente non c'è un gene che codifica per lo zinco ma quali sono i geni che controllano questa presenza o meno di zinco nel sangue è interessante perché comunque lo zinco è anche un indicatore di infiammazione cioè quando c'è infiammazione lo zinco lo zinco si abbassa e quindi potrebbe essere che questi geni sono in qualche modo legati al controllo dell'infiammazione e quindi ancora del benessere. Ecco per darvi un'idea delle soprattutto al professor Bartoni delle entità di questa di questi effetti guardando GGT c'è una media generale di 28,8 unità per litro e le differenze tra i genotipi opposti sono notevoli che vanno abbiamo diviso in questo caso tra primipare e multipare e tra due fasi di lattazioni da 0,90 giorni e da 160,305 e le differenze vanno da 7 a 10 unità per litro quindi anche più di una deviazione standard. Per il PON anche in questo caso le differenze sono dell'ordine di una deviazione standard e per la fosfatasi alcalina addirittura le differenze tra i due genotipi omozigoti sono di due deviazioni standard quindi sono delle differenze direi di tutto rilievo. Per lo zinco anche in questo caso più o meno una deviazione standard nelle primipare nella fase successiva al 160 giorni abbiamo più di due deviazioni standard di differenza dei due genotipi omozigoti. quindi se andiamo a vedere il risultato a queste sfide c'è ripetibilità dei risultati sì per la gamma glottamita asferase e la paraxanasi invece la ceruloplasmina in questo momento è in stand by non c'è stata una ripetibilità. Dobbiamo rispondere o cercare di rispondere quale sia l'effetto in animali che sono soggetti a vero e proprio stress e poi associazione con altri caratteri e poi selezione o non selezione. Allora per validare la presenza di questi effetti genetichi sotto stress sono stati isolati 140 animali scelti dai mille animali che avevamo a disposizione nell'azienda Fugazza che fossero omozigoti opposti per i geni target e poi eterozigoti siccome avevamo tre geni target la GGT la PON e la celluloplasmina abbiamo scelto per esempio omozigoti per l'allele 1 per la celluloplasmina come vedete nel box rosso omozigoti per l'allele 2 celluloplasmino a box arancione ma che fossero per GGT e per paroxonasi eterozigoti tutti eterozigoti per cui in questo caso volevamo isolare l'effetto di un singolo gene alla volta di un singolo marcatore alla volta e la stessa cosa per la paroxonasi e per la PTT e GGT e per avere sicuramente degli animali sotto stress e valutare se gli effetti fossero confermati abbiamo campionato gli animali nel periparto e li abbiamo campionati sette giorni prima del parto a cinque giorni dopo il parto e a trenta giorni dopo il parto questo ci ha permesso anche di utilizzare come vedremo questo Liver Functionality Index che è stato sviluppato dal professor Trevisi che è un indicatore sintetico dello stress degli animali allora devo dire che ci sono stati una serie di fattori confondenti perché diciamo metà degli animali durante questo periodo sono stati trattati con antibiotici in questi primi 90 giorni quindi questo sicuramente non ha facilitato l'analisi e per diverse patologie mastiti zoppie e polmoniti insomma per cui questo ha confuso un po' le analisi vediamo però che insomma se vogliamo avere un primo quadro per esempio per la paroxonasi c'è stata una certa differenza nel livello di trattamento tra un allene e l'altro quindi questo può essere già un indicatore indiretto anche se ovviamente è molto debole in questo caso ecco però nonostante questi trattamenti effettivamente abbiamo trovato che questa è per la gamma glutamil transferasi anche nel in caso di stress nel periparto le differenze che abbiamo osservato nella prima fase si sono confermate nel senso che c'è stata una differenza significativa che è stata valutata diciamo guardando il modello includendo o non includendo l'effetto del marcatore e l'effetto del marcatore è risultato altamente significativo per la GGT vedete quindi che questi sono i tre box delle differenze c'è molta variabilità comunque nella espressione fenotipica della GGT ai tre diversi tempi di raccolta e questo è il profilo come vedete c'è una netta differenza tra i due omozigoti rosso e blu con l'eterozigoti che più o meno rimane in mezzo quindi si si ipotizza anche che ci sia un effetto additivo del geno stessa cosa per la paroxonasi e quindi possiamo possiamo vedere che questo effetto è la stessa cosa verificata anche per gli altri due per gli altri due caratteri la carina fosfatasi e lo zinco che c'è lo stesso effetto anche in animali che sono soggetti a un vero e proprio stress cioè questa differenza genetica è confermata sotto stress quindi può avere un interesse ancora maggiore abbiamo valutato l'associazione con 50 ebv che sono stati forniti da anafi bj e non ci sono state associazioni significative questo vuol dire che questo carattere è indipendente da tutti i caratteri che sono sotto selezione al momento e che quindi potrebbe essere selezionato senza avere un'influenza negativa su altre caratteristiche ovviamente quando si include negli indici di selezione un carattere in più oppure si perde un pochino di efficacia per gli altri caratteri la cosa interessante è anche che c'è un'associazione con le produzioni di latte per esempio per pon qui devo dire che ci siamo accorti ma topo tardi che avevamo invertito i colori il pon più no no scusate non abbiamo invertito i colori probabilmente è qua qui l'espressione più elevata di pon che il pon è effettivamente un enzima che è protettivo per l'animale è un enzima anche che difende o limita il processo di ossidazione quindi lo stress ossidativo dell'ossidazione degli LDL e è associato a una produzione di latte costantemente più elevata è questo che è invertito perché GGT perché è una proteina di fase acuta e che è molto elevata quando il fegato è in difficoltà quindi in questo caso i colori sono sbagliati c'è una maggiore produzione di latte quando la GGT è più bassa quindi quando c'è meno stress a livello epatico quindi l'associazione con altri caratteri è positiva non c'è associazione adesso c'è l'ultimo step l'effetto è sufficiente a giustificare la selezione questo è molto difficile da valutare anche se io penso che per alcuni per alcuni per esempio per la paroxanasi sicuramente vale la pena selezionare perché si sa che è un enzima che è protettivo e quindi avere una elevata espressione di questo enzima comunque ha un vantaggio per l'animale per esempio la gamma glutamiltransferasi questo perlomeno per me non è ancora chiaro se questo sia un biomarcatore quindi semplicemente qualcosa che viene utilizzato per un effetto dello stress ma che non sia vantaggioso magari avere degli animali che esprimono meno una gamma glutamiltransferasi perché evidentemente c'è bisogno di una alta espressione di gamma glutamiltransferasi in caso di stress quindi è un po' come il fatto delle cellule somatiche nel latte fino a che punto dobbiamo selezionare per basse cellule somatiche e questo indicatore diciamo è un indicatore di tolleranza o resistenza alla massita piuttosto che di immunodepressione insomma questa è una cosa simile per cui io non sono sicuro per questa cosa è chiaro che però possiamo dare delle informazioni utili perché rispetto ai valori di riferimento e qui cito ancora il professor Bertoni ma anche il lavoro molto più recente di Michele Premi che ha fatto un dottorato con il professor Trevisi effettivamente se vediamo queste sono i 400 giorni di dilatazione nella fase 1 questa è l'espressione di GGT effettivamente noi vediamo che ci sono dei che i limiti fisiologici considerati fisiologici dipendono dal genotipo e questo è vero per la GGT come è vero anche per PON quindi bisognerebbe forse capire questi marcatori di stress unirli all'informazione del genotipo dei valori che sembrano fisiologici guardando tutto il range di variazione in realtà possono non essere fisiologici quindi gli animali possono essere sotto stress se il genotipo è per esempio A1-A1 perché questi sono dal punto di vista genetico esprimono poco questo tipo di hanno un range più ristretto che è fisiologico le ultime slide la cosa è comunque interessante perché la percentuale di varianza fenotipica che viene spiegata da questi geni è elevata dall'8 fino al 20% per la GGT insomma per cui possono essere veramente presi in considerazione e hanno tutti un'elevata ereditabilità più del 50% ma questo è abbastanza atteso perché sono geni singoli per cui è un'eredità di tipo mendeliano ultime cose che dico spero di essere nei tempi con Liver Functionality Index alla fine c'è una grandissima variabilità ma non abbiamo trovato un'associazione significativa quindi è sicuramente una selezione semplice per caratteri difficili a misurare bisogna però come ho già detto pensare bene se e come utilizzarli per la selezione chiaramente hanno un interesse per la varianza che spiegano e per il fatto che siano geni singoli grazie grazie per l'attenzione mi scuso se sono stato un po' grazie professor Raimone dunque come ci siamo organizzati ieri abbiamo lasciato alla fine una discussione quindi domande interventi per cui adesso il professor Raimone ci nasce con impegno ci raggiungerà dopo e quindi possiamo poi a fine in convegno fare un po' di discussione quindi lascio la parola al dottore Andrea Rosati della European Association of Annual Production il futuro delle produzioni zootecniche e il ruolo dell'Europa Andrea hai 45 minuti a disposizione grazie Alessandro eccomi qua grazie Alessandro iniziamo subito perché c'è da correre richiederò un po' di vostra attenzione dico da subito lo avete visto dal titolo che le slides saranno in inglese mi hanno detto che questa era possibile quindi io mi sono impigrito e ho utilizzato le slide in inglese vediamo se questa funziona no allora mi devo spostare qua perché devo usare questo computer è uguale lo faccio da qui grazie comunque questo è un po' il sommario per sapere che punto siamo nella chiacchierata quindi partiamo subito con la situazione corrente la situazione corrente è che siamo a quasi 8 miliardi di persone questo è il dato di fatto originale perché poi alla fine tutto quello che nelle produzioni animali o la gran parte di questo ovviamente viene utilizzato per sfamare o per servire questi quasi 8 miliardi di persone i prodotti di origine animale ovviamente sono i tre i principali quelli di cui ci occuperemo il latte il primo diamo un po' una visione a quello che sta succedendo nel mondo da qui al 2030 noi ci aspettiamo una crescita del anzi scusate del 2050 del 64% nell'Asia meridionale del 14% nell'Europa occidentale 26% nel Nord America e così via vedete che c'è una crescita diversa soprattutto in Asia meridionale e nell'America latina in Africa laddove il latte crescerà di più nelle stime come produzione le barre in blu invece gli histogrammi sono la produzione reale non è la crescita per quanto riguarda la carne qui l'argomento è ancora più interessante torniamo dal 1960 e vedete la produzione in milioni di tonnellate l'anno di carne che è estremamente più bassa rispetto a quella che c'è ora ma estremamente siamo sotto i 100 milioni di tonnellate e oggi siamo a 300 milioni di tonnellate oggi in senso di due o tre anni fa ma l'altra cosa che salta subito alla vista guardando questa slide è che se torniamo a 50 anni fa 60 anni fa la maggior parte della carne prodotta è quella bovina e un po' quella suina molto meno quella di avicola oggi vedete che quella bovina è cresciuta probabilmente raddoppiato rispetto a 60 anni fa quella suina anche è cresciuta ma molto più che raddoppiato ed è completamente esplosa la produzione di carne avicola oggi la carne avicola è quella suina è la gran parte della carne prodotta quella bovina è diventata da essere la maggioranza relativa a una minoranza per quanto riguarda le uova anche queste secondo Stime Fao stanno crescendo moltissimo da 2000 a 2020 vedete che si è passato da 50 milioni di tonnellate a oltre 80 quasi 85 milioni di tonnellate quindi anche questa è in crescita non lo stesso ritmo di crescita della carne ma diciamo più simile a quella del latte altro modo per poter definire qual è l'attuale situazione scusate l'attuale situazione oggi è quella di quel numero che ci dicono sempre tutti che non so francamente questa statistica dove venga fuori ma lo trovo abbastanza ragionevole che circa il 40% del budget di produzione agricola viene dalla zootecnia è che nel mondo ci sono più di mezzo miliardo di aziende agricole se pensiamo che siamo 8 miliardi praticamente una persona su 16 cioè un'azienda agricola ogni 16 persone poi non è una persona su 16 magari un'azienda agricola lavorano più di una persona quindi è comunque tanta roba forse una delle attività produttive principali se non assoluto la principale e poi l'altro problema di cui dovremo parlare è l'impatto ambientale di questo perché c'è tutta questa grande produzione questo aumento di produzione folle che c'è stato negli ultimi 50-60 anni perché dobbiamo diciamo ieri durante la chiacchierata dobbiamo comunque sfamare il mondo è legato alle necessità umane c'era un signore che si chiamava Thomas Malthus che era un filosofo economista di 200 anni fa poco di 200 anni fa in inglese il quale lui prediceva in modo molto pessimistico che non saremmo riusciti a sfamare il mondo che la crescita della popolazione era certamente più elevata rispetto alla crescita della disponibilità di cibo e che quindi saremmo andati tutti quanti incontro a fame anzi starvation come diceva lui in inglese diciamo che fortunatamente almeno fino ad oggi non è andata così se guardiamo la quantità di calorie a disposizione per persona sempre negli ultimi 50 anni vediamo che nella linea quella viola a livello mondiale passiamo da 2300 forse 2200 chilocalorie per persona nei primi anni 60 fino a qualche anno fa e siamo saliti a oltre 2500 a 2007 a 2008 la linea viola vedete che tutti i continenti sono in crescita con l'eccezione dell'Europa orientale ma qui è dovuto al fatto che c'è stato un crollo nei primi anni 90 dovuto al cambiamento socio-economico di quella zona sono tutti in crescita certo c'è da vedere che effettivamente l'Asia cresce molto di più era l'ultimo tra le varie zone del mondo negli anni 60 ed è salito ha sorpassato l'Africa e sta salendo sempre più quasi arrivando a livelli medi mondiali però questo che cosa ci dice è che non solo è cresciuta la quantità di cibo di alimento di origine animale come abbiamo visto nelle slide precedenti ma nonostante la crescita della popolazione c'è stato un aumento superiore della disponibilità di cibo e quindi le calorie a disposizione per persona sono aumentate nonostante questo ci sono delle zone nel mondo dove ancora purtroppo si soffre la fame negli ultimi anni questa non si è abbassata si era sempre attorno agli 800 milioni di persone che sono a livelli critici credo che oggi siamo 880 milioni quindi di fatto negli ultimi anni sarà la crisi erano molte altre cose forse i cambiamenti climatici ma sta un po' crescendo ed è sempre nelle stesse zone vedete l'Africa centrale e poi le zone dove c'è una guerra o problemi seri tipo Yemen l'Iraq la Somalia l'Afghanistan anche questa è una slide abbastanza classica si vede spesso la fa o la prodotta che dicendo che un terzo del cibo è perso o scartato c'è una diversità in questi due nella prima parte la parte persa è la parte che diciamo così dovuta dal momento della produzione alla fase commerciale l'altra cosa quello scartato è quella della fase commerciale fino al consumo in alto a sinistra vedete che è molto interessante vedere dove vengono scartati gli alimenti nei paesi in via di sviluppo cioè le barre blu vengono scartati soprattutto in fase produttiva ma ancora più nella gestione nello stoccaggio e nella distribuzione al mercato nei paesi sviluppati come il nostro la maggior parte dello scarto avviene a livello di consumo come a dire nei paesi in via di sviluppo non ci sono infrastrutture pensate alla catena del freddo tutto quello che serve per poter mantenere gli alimenti fino ad arrivare alla parte commerciale ma una volta che la gente lo compra poi lo consuma da noi diciamo con un po' scarto senso di responsabilità e un po' di colpevolezza lo scartiamo dal frigorifero purtroppo sono esperienze quotidiane in molti di noi come siamo arrivati però a questo punto come siamo arrivati al fatto che comunque sia pur essendoci una forte crescita della popolazione riusciamo a sfamare e dare ancora più calorie rispetto a quello che davamo nel passato ci siamo arrivati grazie alle tecnologie le tecnologie sono tante ma devono anche essere e poi magari le vedremo un pochino ma devono anche essere utilizzate bene quindi devono avere delle infrastrutture deve esserci la cultura deve essere una società che è pronta devono esserci degli investimenti per poter permettere la ricerca e l'applicazione di queste infrastrutture comunque tutto questo aumento quasi tutto diciamo è dovuto all'aumento delle tecnologie esistenti ma quando penso alle scienze animali ho tirato giù un breve elenco di tecnologie che hanno prodotto questo ora queste sono le prime che mi sono venute in mente ce ne saranno molte altre non le potevo scrivere tutte però penso che immagino che ciascuno di voi pensa a qualcun altro oltre a queste però sono diverse le tecnologie applicate insomma dai sistemi di riferigerazione al carro Unifid all'inseminazione artificiale per la genetica vaccini antibiotici e così via quindi siamo arrivati a quella situazione ma chi è che è responsabile per essere arrivati a quella situazione ora se io parlo con gli allevatori dicono beh siamo noi grazie a noi si produce di più se parlo con il mondo della ricerca con il quale parlo più spesso che con gli altri dicono beh grazie alla nostra ricerca questo è possibile l'industria dice ma senza di noi francamente non si riusciva a fare nulla perché non riusciva ad applicare la ricerca andiamo a vedere io ho diviso in sei attori principali partendo dal primo che sono quello degli allevatori ora che cosa sta accadendo agli allevatori negli ultimi anni sicuramente il numero degli allevatori diminuisce è stato detto anche ieri durante una precedente presentazione diminuendo il numero degli allevatori aumenta la grandezza delle aziende il che significa che c'è una maggiore possibilità di investimento il che significa c'è una maggiore quantità di tecnologie applicate c'è un solo posto al mondo dove questo non sta accadendo e lo vedremo successivamente qui e inoltre l'allevatore era legato alla tradizione e lo è tuttora ma si sta sempre più spingendo verso il mercato cioè di produrre quello che vuole il mercato quindi questa maggiore capacità di investimento di applicare le tecnologie di vicinanza al mercato ha fatto sì che le produzioni siano migliorate da un punto di vista dove l'allevatore è responsabile poi c'è il mondo della ricerca la ricerca sappiamo tutti si divide in due settori quella pubblica e quella privata diciamo che c'è la maggioranza e quella pubblica però questo sta un po' shiftando verso quella privata cioè se trent'anni fa quando più o meno iniziavo a lavorare mi rendevo conto che quasi tutta la ricerca pubblica oggi nel mondo c'è molta ricerca privata molta parte dell'expertise inizia a stare dentro l'industria quindi si sposta un pochino questa cosa il che fa sì che se la ricerca è pubblica si può guardare anche a lungo periodo a fare il famoso inglese il blue sky thinking se la ricerca è privata ovviamente si pensa al domani massimo al dopodomani perché c'è ritorno di un investimento diretto quindi c'è situazioni diverse ovviamente è anche molto importante dove la ricerca è fatta se la ricerca è fatta in nord america si presume che sia fatta per la zotechina del nord america e quindi non è molto importante per loro fare ricerca per zotechina dei paesi tropicali a parte hanno anche la florida però per dire insomma altra cosa molto importante è il flusso dalla ricerca all'industria all'applicazione all'allevamento questa è un'altra cosa molto importante la mancanza di questo flusso fa sì che tutto il sistema è più inefficiente e passiamo quindi all'industria ora abbiamo parlato di efficienza anche nel campo dell'industria forse ancora più nel campo dell'industria l'efficienza è migliorata ha un impatto importante nella nella zotecnia il motivo per cui ha l'impatto non è solamente l'applicazione della tecnologia è che le industrie hanno come obiettivo principale un ritorno economico ce l'hanno tutti ma le industrie sono più mirate a questo un ritorno economico il ritorno economico è se si riesce a sviluppare e a produrre lo stesso prodotto e venderlo tantissimo invece di fare 50 prodotti diversi quindi fare economia di scala a questo punto questo significa che l'industria sviluppa non so l'industria mi viene in mente delle marche auricolari di microchip per dirne una ma ne potrei citare tanto altre utilizza lo stesso prodotto in tutto il mondo i vari produttori utilizzano lo stesso prodotto in tutto il mondo ora questo ha un minimo impatto ovviamente sulla qualità del prodotto forse ho usato l'esempio sbagliato ce ne sono di migliori però quello che voglio dire è che grazie all'industria che standardizza e cerca di standardizzare i loro prodotti è standardizzata anche l'applicazione il che standardizza anche le produzioni zootecniche poi ci sono i politici quali dicono beh senza di noi voi non avreste le leggi giuste ma soprattutto non avreste i sostegni giusti c'è un sostegno selettivo anche questo ieri l'abbiamo un pochino accennato in Europa si sta sviluppando il sostegno quasi esclusivamente per il mantenimento ambientale per il benessere che è un po' l'argomento anche di questa riunione ci sono delle decisioni sul commercio internazionale che hanno degli impatti insomma ragazzi quello che sta succedendo in questi giorni è sotto gli occhi di tutti e soprattutto in paesi come l'Europa il Nord America l'Australia ci sono sempre nuove regole per il benessere per la sanità e per il mantenimento dell'ambiente tutti questi hanno un impatto importante sulla produzione zootecnica e poi tutti produciamo per questi per i consumatori allora c'è una crescita della popolazione umana quindi a livello dei consumatori se ne richiede di più non solo ma c'è una crescita un cambiamento di dieta nei paesi in via di sviluppo le diete stanno modificando i paesi in via di sviluppo stanno consumando sempre più proteine di origine animale lo vedono come oltre a un fatto diciamo così di salute ma come un cambiamento di status symbol ma nulla di più e nulla di meno di quello che accadeva ai nostri nonni i nostri nonni il loro sogno era mettere la fettina sul piatto tutti i giorni e oggi la stessa cosa accade per molti popoli dei paesi in via di sviluppo almeno come tendenza sempre facendo ricerche per questa presentazione ho visto che negli ultimi 60 anni la dico sempre questa cifra forse qualcuno di voi l'avrà già sentita perché mi ha colpito negli ultimi 60 anni il consumo medio di carne in Cina medio per persona è aumentato di 9 volte cioè non è raddoppiato non è aumentato il 50% è moltiplicato per 9 in 60 anni e stiamo parlando di 1 miliardo e 400 milioni di persone più o meno quindi pensate che effetto può aver avuto questo negli ultimi 60 anni nella produzione di carne una cosa esplosiva eclatante e non è finita qui perché ora la Cina forse ha raggiunto un plateau ma poi ci sono tanti altri paesi molto popolati in Asia l'India tra qualche anno surpasserà la Cina in quanto a numerosità di popolazione e poi l'Indonesia Vietnam e tanti altri paesi dell'area pensando poi che forse tra qualche decennio arriverà la stessa cosa anche in Africa c'è anche un cambiamento nei paesi sviluppati i paesi più ricchi ma è più minimale scusate è minimale e inoltre riguarda una porzione della popolazione mondiale più bassa e infine c'è il sesto attore che è quello della società civile che avevamo tenuto fuori dalla porta per tanti anni da sempre e che però da qualche anno hanno un impatto anche su quello che facciamo noi quello che la società civile pensa nell'impatto ambientale quello che pensa nel benessere animale quello che pensa i valori etici che dà alla zootecnia di cui anche ieri avevamo iniziato la discussione hanno un forte impatto a livello di politici a livello di consumatori e quindi alla fine in tutto il sistema in tutto il sistema molto di più di quello che si pensa ho voluto anche inserire la parte strategica del cibo perché questa è una cosa che si pensa poco perché oggi ognuno di noi tornerà a casa apre il frigo e mangia non è la stessa cosa in tutto il mondo o comunque c'è una maggiore difficoltà in qualche paese il valore strategico del cibo è forse il valore strategico più importante più di avere un'arma di avere il gasolio di avere qualsiasi cosa perché è il bisogno primario di ogni essere vivente quindi ovviamente anche di ogni essere umano e in scarsità di questo diventa la cosa più importante del mondo laddove invece da secoli ce l'abbiamo sembra che non sia importante ma effettivamente è importante e purtroppo potrebbe tornare ad essere importante almeno per alcune zone del mondo a proposito di zone del mondo pensiamo alla situazione europea in Europa certo il settore della zootecnia è un settore molto importante e circa il 45% secondo i dati più attuali della produzione agricola è dovuta alla zootecnia parliamo di 168 miliardi di euro annuali parliamo di l'Unione Europea da un lavoro a circa 30 milioni di persone più o meno tra allevatori trasformatori commercianti e così via soprattutto negli allevamenti parlando per esempio dei grandi animali dei bovini da latte un po' meno in quelli dei suini e degli avicoli questo ovviamente per unità di prodotto dovuto alla meccanizzazione più o meno importante che c'è in questi settori diversi quali sono i benefetti dei fare zootecnia in Europa sono diversi innanzitutto la vicinanza a un mercato ricco che permette anche la capacità di investire e di sostenere anche dei costi di lavoro elevati diciamo che una vicinanza allo sviluppo tecnologico una buona applicazione della ricerca è un'applicazione corta quindi dalla ricerca all'industria all'allelatore la catena è molto corta e anche c'è un background culturale molto importante la presenza di tecnologia e della cultura e la ricchezza di un posto ora parliamo di zootecnia ma potremmo parlare di qualsiasi altra cosa io quando penso ad esempio alla Svizzera faccio sempre questo esempio che per motivi loro strategie loro vecchie di secoli è un paese molto ricco poi pensi bene che non hanno nulla cioè non hanno un sottosuolo ricco di petrolio di oro non hanno pianure sconfinate agricole eppure è un paese molto ricco lì è la tecnologia e la cultura che in qualche modo funziona quindi questo è a livello generale non solo per la zootecnia e poi c'è il mondo della ricerca le università europee sono tra le migliori al mondo ogni anno sapete che viene fatta la classifica delle migliori università al mondo e tra le università agricole tra le prime sei ce ne sono quattro europee mi piace anche citarle perché Wageningen ne sono credo nove anni in fila che vince questa classifica che è in Olanda la vince sempre con seconda la UCLA Davis in California però le altre tre nelle prime sei sono il Politecnico di Zurigo l'Università delle Scienze Naturali di AAS in Norvegia e la UPS la Università di Svezia domani magari speriamo di avere qualche università italiana da queste parti la ricerca scientifica è molto buona molto elevata ma a livello europeo nonostante gli sforzi fatti per esempio dai programmi quadro della ricerca internazionale dell'Unione Europea non è ancora omogenea che sono dei posti dove è ancora indietro e dei posti ancora un po' avanti è naturale che sia così dobbiamo tutti lavorare perché questo in qualche modo si omogenee dove in qualsiasi zona dell'Europa le università siano di livello elevato e di centri di ricerca i programmi quadro un po' hanno aiutato ma fino a un certo punto perché poi alla fine purtroppo o per fortuna vincono chi produce un progetto migliore e spesso sono quelli che già sono migliori quindi è anche un po' difficile nella gestione per dire questa la faccio vedere quando magari presento soprattutto agli studenti più che ai ricercatori per dire dove si svolge la zootecnia in Europa perché magari abbiamo un'idea non proprio chiara che è per unità di diciamo così animale per ettaro Cuba e in Italia ovviamente Lombardia e Veneto sono le regioni preponderanti l'evoluzione di consumo di prodotti animali in Unione Europea è anche molto interessante segue un po' l'andamento mondiale anche se non completamente se facciamo 100 il consumo nel 1980 vediamo che in 30 anni come è mutato è quasi raddoppiato quello del pollame è aumentato molto quello del pesce è aumentato il latte i trasformati del latte e la carne suina più o meno è rimasta in pareggio quella delle uova è scesa la carne bovina e ovina un po' segue l'andamento a livello mondiale ora questo sviluppo questo quello che noi prevediamo che accadrà nel futuro è dovuto ad alcune forze che spingono e ad alcuni vincoli che frenano allora quali sono le forze correnti innanzitutto c'è un aumento della popolazione non c'è forza principale nell'aumento delle produzioni alimentari che è l'aumento della popolazione anche se questo avviene in modo ineguale nelle varie aree guardate questa diapositiva questo grafico che francamente un po' spaventa dove c'è la linea retta è ai giorni nostri e vediamo la popolazione Asia come continente più popolato poi c'è l'Africa attenzione l'Africa fino a pochi anni fa era meno dell'Europa e inizio del Novecento era un terzo della popolazione europea oggi è praticamente il doppio e gli altri continenti la Latina America l'Oceania il Nord America più o meno stanno agli stessi livelli anche se in leggera crescita quello che poi è fino al 2050 è quello che prevediamo di arrivare circa 9 miliardi e mezzo di persone questa è la cosa che tutti quanti ci aspettiamo questo grafico arriva fino al 2100 ma come diceva il mio professore di analisi della regressione questa è pura fantasia andare così tanto oltre le osservazioni fare una retta di regressione così oltre l'osservazione è veramente pura fantasia e lo vediamo un po' su invece quello che dovrebbe accadere in Europa vedete fino a dove siamo arrivati e vedete quali sono le previsioni la previsione media diciamo così è quella di passare dai 750 milioni nel 2100 a passare a meno di 650 milioni però mi interessava anche vedere vedete quelle linee blu quella significa avere rispetto alle previsioni quella in alto avere mezzo figlio in più per donna e quella in basso avere mezzo figlio in meno mezzo figlio che differenza fa pensate alla natalità così bassa che è in Italia e quindi ci regoliamo le conseguenze bene altre forze abbiamo detto l'aumento della popolazione l'aumento dei prodotti in animali nei paesi in via di sviluppo ricordate le prime depositive l'aumento del latte soprattutto in Asia e in Africa i cambiamenti negli aspetti sociali nelle tradizioni l'interesse dell'aspetto ambientale l'applicazione delle nuove tecnologie c'è una crescita importante del commercio internazionale noi forse quotidianamente non ce ne accorgiamo ma chi ha i capelli bianchi come me fino a 20 anni fa al sushi non sapevamo neanche cosa fosse e oggi si mangia una volta la settimana ma è molto comune ma la stessa cosa in Giappone immagino 50 anni fa non sapevano cosa fosse la pizza oggi forse mangiano più pizza loro di sushi noi quindi questo commercio internazionale ha spostato molto e ha fatto sì che comunque è una forza di aumento delle produzioni in più è dovuto anche a questo commercio internazionale forse anche causa del commercio internazionale una standardizzazione dei mercati delle tecnologie applicate e dei sistemi di produzione come andremo avanti nel futuro l'aumento della produzione partendo da questa una cosa interessante di un articolo di Smith di una decina di anni fa dal 1500 fino alle prime rivoluzioni diciamo così agricole diciamo così la meccanizzazione in agricoltura è aumentata la produzione soprattutto perché è aumentata la quantità di terra a disposizione poi che è la parte rossa la parte verde dove è aumentata invece è a causa della tecnologia quindi un'intensificazione una tecnologia che è aumentata in modo esponenziale nel futuro magari sarà una maggiore una migliore gestione di questa cosa andiamo all'ambiente allora questa è una cosa della percentuale di emissioni di gas metano o GHG gas serra 14,5% è un po' un numero che è più o meno circa dove la gente pensa che stia sono anni che si fa ricerca su questa cosa francamente lo dico magari offendo qualcuno la trovo un po' una discussione stucchevole e anche abbastanza inutile perché sapere che al 13% o al 18% non sposta di una virgola il discorso però queste sono le cifre e queste sono le cifre che volevo dare da dove viene invece forse un pochino più importante ce l'aspettiamo tutti nella gran parte delle emissioni di gas serra viene dalla parte di ruminanti meno dei monogastrici vedete nella parte sotto di questa figura vedete la parte dei bovini da carne 2,9 gigatonnellate 1,4 per i bovini da latte un po' neanche per i bufali per i piccoli ruminanti e altrettanto per la carne di suini ma ovviamente sempre minore rispetto alla parte dei bovini viene prodotta in più o meno divisa a metà tra la produzione di alimento per gli animali e la produzione proprio dell'animale stesso in piccola parte per quello che cade dopo cioè il trasporto e il modo di poter processare perché dico che è assolutamente inutile sapere se è 13% o 18% o 15% perché la gran parte di questa cosa innanzitutto non viene da noi ma viene dai combustibili fossili quindi io vorrei avere la stessa attenzione anche da quell'altra parte quelli che fanno tutto quell'altra parte la rimanente parte che sono l'85% almeno di quello che è l'emissione di gas serra ma poi soprattutto perché se vedete questa depositiva vi rendete conto che la produzione di gas serra da carne questa è in Africa ma perché l'avevo puntata sull'Africa però è in gran parte dovuta a diciamo così paesi laddove non c'è questa attenzione cioè la gran parte viene dall'Asia a seguire l'Africa e l'America Latina e l'Africa più o meno insieme mentre l'Europa e il Nord America che sono quelli che fanno ricerca se è 13, 15, 16, 17% e cerchiamo di abbassarla di un punto percentuale di fatto producono una bassissima parte di gas serra proveniente dall'allevamento zootecnico ora in Asia sappiamo tutti che ci sono centinaia di milioni di bovini in India di bufali con una produzione a un'efficienza bassissima produttiva e stiamo a sfrugugliare scusate il termine sulla percentuale di bovini di percentuale di gas serra prodotto da un bovino qui a Mantua che magari mi fa 100 quintali a lattazione cioè non ha molto senso cioè stiamo cercando le chiavi sotto il lampione quando sappiamo che l'abbiamo persa al buio a 20 metri di distanza non ha veramente molto senso questa cosa e secondo me è lì che dovremo più o meno batterci un pochino tutti piuttosto che andare a cercare di diminuire che è giusto farlo perché a realtà non dico che non è giusto farlo ma andare a vedere laddove è importante farlo e penso ai combustibili fossili ma anche nell'ambito della zootecchina dove ha un qualche effetto ed è difficilissimo perché lì non c'è in queste parti parlo di Asia Africa e anche in parte Latina America non c'è un'applicazione tecnologica come da noi gli animali sono scarsamente efficienti sicuramente un minor controllo questo per quanto riguarda l'ambiente poi c'è un altro vincolo oltre a quello dell'ambiente molto forte è la competizione del cibo tra animali e umani ora ovviamente ne discutiamo ieri sera anche a cena con Alessandro e Paolo Aimone questo si parla soprattutto di cibo che entra in competizione quindi mais è un problema che soprattutto in India è molto sentito questa cosa ovviamente non gli scarti della lavorazione però anche questo fattore è importante aspetti sociali che ci frenano il benessere animale tutti i prodotti gli animalisti i vegani i vegetariani che dalmeno le nostre attitudini hanno un buon impatto e poi ci sono i vincoli legati all'applicazione della tecnologia come ho già detto prima la tecnologia non viene applicata allo stesso modo ovunque ci sono dei parti del mondo dove non è applicata per vincoli strutturali e culturali andiamo a vedere qual può essere il futuro globale e quello europeo innanzitutto non c'è una risposta unica quando si dice il futuro della zootecnia è così è come dire il futuro non so è una situazione così eterogenea come tutto eterogeneo nell'ambito agricolo perché è legato al territorio alle tradizioni alla cultura che non si può standardizzare come futuro quindi quanto meno dobbiamo andare per aree se non per settore produttivo qualche dato generale si aspettano 9 miliardi e mezzo di persone in questo pianeta e la popolazione europea crescerà non di tantissimo le produzioni animali avranno un ruolo importante nel soddisfare l'esigenza alimentare di questa crescita di popolazione di questo cambiamento di dieta che c'è soprattutto nei paesi in via di sviluppo le produzioni europee rimarranno abbastanza stabili con una leggera crescita su alcuni settori e comunque l'Europa continuerà ad avere un settore importante un ruolo importante nello sviluppo tecnologico per migliorare l'efficienza grazie alla nostra capacità di fare cultura e di fare efficienza qualsiasi cosa il mondo deve produrre ancora più carne latte ed uova e soprattutto farlo con costi bassi con livelli di qualità elevati e diminuendo l'impatto ambientale sono tre cose che vanno un po' in antidesi l'una con l'altra il fatto sta che però questo dobbiamo cercare di ottenere il consumo degli prodotti animali crescerà molto soprattutto nei paesi in via di sviluppo in Europa ho già detto che più o meno dovrebbe rimanere stabile e la modifica delle diete è forse la cosa che ha un impatto ancora superiore alla crescita della popolazione perché è vero siamo 8 miliardi arriveremo a 9 miliardi e mezzo presto ma è anche vero che il cambiamento delle diete sarà ancora più importante darà un impatto ancora più importante ci saranno diverse situazioni per aree diverse c'è anche un altro fattore l'urbanizzazione circa 10 anni fa la popolazione urbana ha superato a livello mondiale la popolazione rurale nel 2100 anzi scusate nel 2050 vado a memoria si pensa che la popolazione urbana sarà il 75% della popolazione mondiale a inizi del 900 era il 10% quello che è successo in Italia nel dopoguerra la gente che ha lasciato le campagne è andata in città raccontata splendidamente da Pasolini perché lui è stato forse quello che ha capito meglio di tutti questo cambiamento culturale che avveniva è accaduto in tutto il mondo prima di noi è accaduto in Europa settentrionale in America e dopo di noi nei paesi in via di sviluppo attualmente in Cina e in molte altre zone del mondo sta accadendo questo il tasso di urbanizzazione come ho già detto è in crescita questi sono i paesi quelli scuri in cui c'è un maggior tasso di urbanizzazioni con esclusione di alcuni posti ovvi tipo vedo qui l'Arabia la Libia l'Australia l'Argentina dove sono molte zone grandi zone non ospitali non utilizzabili ma vedete quello che sta accadendo e vedete l'urbanizzazione ancora non è non ha preso piede è soprattutto in Africa e nell'Asia sud orientale un discorso faremo poi per l'India ci sono aree marginali e ci sono che possono essere disponibili ancora su quale parleremo e ci sono i paesi in via di sviluppo ma nei paesi in via di sviluppo le aree marginali uno pensa vabbè ci sono ancora molte aree marginali che potremmo utilizzare guardando questo grafico francamente così non è vedete nella parte viola in alto nella retta nella spezzata in viola in alto c'è la disponibilità in milioni di ettari della terra che si può utilizzare per uso agricolo nei paesi in via di sviluppo nella spezzata che cresce di più invece abbiamo la popolazione nei paesi in via di sviluppo come sta crescendo che cresce in modo superiore rispetto all'aumento della disponibilità delle terre agricole il che significa e vedete la retta in basso quella con i pallini che il numero di ettari a disposizione la terra agricola a disposizione per persona nei paesi in via di sviluppo diminuirà di circa tre volte in cento anni dal 1960 al 2050 quindi l'utilizzo di aree marginali aiuta ma non risolve tantissimo le produzioni aumenteranno di latte nei prossimi dieci anni si crede che cresceranno di oltre 300 milioni di tonnellate più di 54% per azienda perché ci saranno 104 milioni di aziende in meno dati FAO ovviamente il consumo di latte nei prossimi dieci anni dovrebbe crescere del 16% i migliori paesi esportatori sono si ricomarranno l'Unione Europea gli Stati Uniti la Nuova Zelanda ma l'Asia Meridionale ha una grande potenzialità di crescita e poi c'è una potenzialità di crescita nell'Africa forse tra qualche decennio con una crescita del 30% ma l'avevamo vista in una delle prime diapositive l'Europa nel 2030 continuerà a fornire il 35% del latte totale a livello mondiale però ha più diciamo così il latte prodotto in Europa così come il latte consumo diretto diminuirà leggermente quello che aumenterà sono i prodotti caseari e continuerà infatti a esportare formaggio burro latte e così via latte in polvere il mercato europeo crescerà abbastanza c'è una crescita diciamo così modesta del 0,8% in circa l'anno fino al 2030 la produzione per animali questo è importante fino al 2030 si crede che crescerà ancora di un ulteriore del 14% in Europa la produzione globale del mondo crescerà al 2030 di altri 330 milioni di tonnellate questo nonostante quello che ci dicono i vegani vegetariani bisogna ridurre però ragazzi il mercato questo chiede poi magari ne parleremo i paesi europei dove crescerà di più la produzione di carne sono quei paesi dove c'è la struttura e la terra a disposizione per poterlo fare quindi paesi dell'Europa orientale Romania Ungheria Polonia e continuerà il trend si crede dell'aumento dei produzioni di avicolo e suino per quanto riguarda le uova anche queste cresceranno a livello più o meno simile che l'abbiamo visto nell'ultimo periodo l'Unione Europea è sempre il secondo produttore di uova al mondo ovviamente dopo la Cina l'Europa l'industria zootecnica europea avrà nuove sfide l'aumento dei costi di produzione per quanto riguarda gli alimenti lo stiamo vedendo quest'anno per una crisi diciamo climatica e purtroppo anche di guerra nell'Europa orientale ci saranno delle leggi ancora più stringenti per quanto riguarda la sicurezza alimentare la qualità dei prodotti che era sempre richiesta con un maggiore interesse nel welfare tutto questo finisce poi a parlare di economia cioè tutto questo deve avere un'efficienza economica altrimenti non si va da nessuna parte e vado alle conclusioni Alessandro allora quindi l'analisi come dicevo è molto più corretta quando si parla di aree geografiche di sistemi di produzione piuttosto che a livello globale l'Africa subsahariana rimarrà comunque un importatore netto di produzione nelle aree dove c'è terra e capitale penso all'America o all'Australia la capacità della meccanizzazione e l'azienda la grandezza dell'azienda aumenterà dove invece c'è mancanza di questo ci sarà minore efficienza questo è abbastanza scontato in Europa la caratteristica sarà l'intensificazione nella specializzazione ancora rimarremo con una buona capacità di investimento forza lavorativa che ha un costo abbastanza elevato e dovremo cercare di arrivare a prezzi un pochino più bassi dei prodotti animali anche se la From Farm to Fork visto recentemente probabilmente va un po' in controtendenza gli obiettivi pubblici non sono quelli di produrre maggiore di avere maggiore produzione ma sono chiaramente di mantenere uno sviluppo rurale di proteggere l'ambiente e conservare la biodiversità questi sono gli obiettivi pubblici e poi ovviamente perché sono forse le cose che mancano pensano che comunque la produzione zootecnica va avanti un po' da sé partiamo dell'America Latina qui c'è un accesso ineguale alle risorse naturali alla terra e questo è un caso storico insomma i problemi dei campesinos e così via circa il 50% delle produzioni della terra in America Latina è nelle mani di 1% delle aziende con punte elevatissime in Colombia in Perù e in Uruguay e questo la dice lunga sulla ricchezza dei paesi i paesi un pochino più ricchi fondamentalmente hanno un pochino maggiore divisione di questo tipo però resta un fatto abbastanza eclatante in Sud America paese principale come il Brasile siamo al 55% della terra anzi il 45% scusate della terra posseduto dall'1% delle aziende questo fa sì che c'è comunque una migliore efficienza nella produzione della carne e anche in Latina America c'è un passaggio dal classico allevamento bovina carne ai suini e agli avicoli nella Cina e nell'Asia meridionale sud orientale scusate ci sono aziende piccole ma sono in crescita c'è un aumento fortissimo nelle produzioni zootecniche che viene da lontano la ricerca già da 20-30 anni in quelle zone è sponsorizzatissima se vi ricordate almeno quando mi ricordo quando ero studente io trovare un articolo cinese era impossibile era come trovare un quadrifoglio oggi trovare una rivista scientifica da una incisione almeno il 50% degli articoli vengono dalla Cina e lì diventa più difficile adesso quindi tanto per dare un'idea di come siamo messi però che sta succedendo che in Cina soprattutto si stanno lasciando abbandonando le campagne per andare nelle città perché quello che è successo in Italia negli anni 50-60 lì è la ricchezza lì sono i posti alla moda cinema, teatri la ricchezza quello che si considera la ricchezza è di uno status simbolo per cui il governo sta cercando di alzare i salari per chi resta in campagna e questo ovviamente a cascata aumenta il costo di produzione c'è un aumento anche da queste parti ovviamente delle produzioni di carne e polli l'Asia meridionale è un caso particolare e parlo soprattutto dell'India è l'unico posto al mondo almeno a mia conoscenza dove le aziende stanno diminuendo in dimensione dal 1990 ad oggi le aziende che hanno più di 10 ettari sono passate dal 9 al 4,5% ho cercato perché questa cosa in controtendenza diciamo che in fondo una parte è il costo del lavoro che è molto basso quindi perché meccanizzare se comunque continuo ad avere un costo del lavoro basso e poi c'è una maggiore frammentazione perché avere un pezzo di terra anche se fossero due ettari e credo che la dimensione media sia quella due ettari consente a una famiglia di sopravvivere quindi quando un genitore lascia in eredità la terra agricola la spezzetta per permettere che i propri figli abbiano ancora qualcosa di cui mantenersi e questo fa sì che si spezzetta sempre di più e crea mille problemi poi ci sono altri problemi che ho incontrato leggendo un po' di letteratura dalla classica corruzione dalle gestioni non proprio precise dei vari stati di cui è formata l'India però di fatto è questo consente di mantenere una capacità di sopravvivenza familiare ovviamente si arriverà fino a un certo punto poi oltre chiaramente non si va c'è quindi una piccolissima possibilità di applicare tecnologie in questi casi se non in cooperative ci sono alcune grandi cooperative anche lì ovviamente e l'altro rischio che vedo a meno di queste parti e parliamo di un paese che ha un miliardo e 300 milioni di persone se non vado errato è che è tutto legato al ciclo monsonico che per ora è stato minimamente poco impattato dal cambiamento climatico ma sono cose così fragili io non ne so nulla praticamente bisogna essere un meteorologo cose così fragili però almeno sento dire che basta poco per modificarle il cambiamento dei cicli monsonici in una zona del mondo dove quasi tutti vivono di agricoltura e quasi tutti sono un miliardo e 300 milioni di India se ci mettiamo anche il Pakistan e il Bangladesh arriviamo a qualche centinaia di milioni in più e potremmo essere sul bordo di una catastrofe umana c'è comunque un aumento di produzione almeno per quello che si può fare l'Africa subsahariana sono sistemi di produzione molto fragili dovuti a cambiamenti climatici a malattie animali a migrazioni e così via ci sono diverse soluzioni molto dipende comunque dal livello di fragilità l'Europa comunque rimane sempre una zona ricca che esporta prodotti animali un'altra cosa importante adesso poi devo un pochino correre perché penso di aver proprio sforato è quella della capacità di trovare un salario al di fuori della zootecnia in molti paesi parlavo della Cina ma questo sta succedendo in molti paesi in via di sviluppo comunque sia in conclusione più gente più prodotti di origine animali sono necessari nuove diede più prodotti di origine animali sono necessari in qualsiasi caso come la vediamo ci sarà un aumento della produzione quindi significa che la produzione animale la produzione agricola dovrà aumentare al 70% e quell'animale si dice tra il 60% e il 90% fino al 2050 ovviamente sono stime punto interrogativo produzione agricola quando uno pensa a produzione agricola cosa pensa? calorie? chilogrammi? io sono a vedere la FAO perché dice produzione agricola deve aumentare ma qual è l'unità di misura? è la parte economica il valore il valore economico quindi tanto per chiarire quando si parla di aumento di produzione agricola mi sono posto questo problema ovviamente ci sono meno allevatori meno agricoltori nel mondo in Europa sono 4,5% di agricoltori in America sono il 2% ma erano il 41% nel 1900 questa è una tendenza che abbiamo detto andrà da ovunque c'è una maggiore vicinanza alle aree urbane anche dei processi produttivi zootecnici basta andare nelle grandi città io sono stato recentemente qualche anno fa fortunatamente attorno a Mosca e c'erano decine di grandissimi allevamenti bovini da latte attorno alla città creati ex novo perché lì è il mercato ok la farming revolution beh qui andiamo un pochino insomma andiamo un pochino lungo l'Europa come un modello l'Europa non può essere usato come un modello questo deve essere chiaro a tutti perché noi abbiamo le linee guida ma vanno bene per l'Europa quando parliamo in paesi in via di sviluppo e insomma il professor Bertoni ha almeno molto più esperienza di me ma anche altri immagino ci sono delle linee guida che devono essere adattate per quelle zone per quei posti non si può traslare come è stato fatto erroneamente forse per un secolo quella che è la tecnologia nostra e applicarla in paesi in via di sviluppo magari anche tropicali e uno dei problemi di questi posti è la mancanza delle linee guida dove la FAO l'ILRI e altri istituti cercano di fare però insomma non è ancora sufficiente le future sfide in Europa vabbè questo è mantenere l'efficienza economica ha ancora molto potenziale per crescita di crescita andiamo oltre voglio andare veloce perché non voglio tediarvi ulteriormente l'ambiente e la sanità è una cosa di cui abbiamo parlato molto soprattutto nei paesi in sviluppo questa è una cosa importante conclusione finale con con l'attuale necessità di una di prodotti di origine animali e con i vincoli adesso associati la possibilità di mantenere l'ambiente come è oggi e allo stesso tempo soddisfare la richiesta di cibo nei prossimi 20-30 anni è molto limitato queste possibilità sono molto limitate e nonostante lo sforzo della ricerca il mondo industriale e quello economico come ho già detto vedono all'oggi e forse al domani e magari anche al dopodomani ma non vedono a lungo raggio quindi noi invece abbiamo bisogno di una visione a lungo termine che possa avere un effetto da qui al 2030 a qui al 2050 purtroppo si va passetto per passetto sia per come è organizzata la ricerca oggi in generale a livello mondiale di fare la prossima pubblicazione ma soprattutto perché il settore economico è quello che spinge tutto vuole un risultato oggi e domani e ad oggi questa cosa non si vede con questo ringrazio e voglio ricordarvi che a settembre dal 5 al 9 settembre abbiamo il convegno annuale europeo di zootecnia che si svolgerà a Porto in Portogallo e invece più a breve gettata il 14 giugno abbiamo un workshop su ethical dog breeding che sta ricevendo abbiamo ne parliamo ieri sera a due settimane dall'evento già 200 partecipanti sono registrati a due settimane dall'evento quindi penso che raccolga molto interesse grazie grazie Andrea hai sporato di 4 minuti quindi sei stato avessi saputo se sei andato avanti ma io non te l'ho detto attenzione allora abbiamo un coffee break che ottimizzeremo in un quarto d'ora in modo che recuperiamo non tanto per correre perché per lasciare perché in teoria noi finiremmo alle 12 e 15 però ieri sera è successo che abbiamo finito più o meno puntuali ma poi è partita una discussione che a un certo punto abbiamo deciso di terminare alle 7 quindi perché gli argomenti sono talmente tanti e stimolanti che alla fine tutti vogliono dire qualcosa giustamente quindi prendiamoci un quarto d'ora e ci vediamo dopo allora iniziamo la seconda parte del secondo giorno con l'intervento abbiamo l'intervento del professor Maurizio Moschini il dottor Federico Froldi del Dipartimento di Scienze Animali di Nutrizione cioè il DIANA praticamente dell'Università Cattolica del Sacro Cuolo il titolo è nuovi metodi per la stima dell'impatto ambientale lungo la filiera del latte quindi abbiamo i soliti 30 minuti a disposizione e la discussione come ho detto stamattina la faremo poi in fondo grazie grazie buongiorno a tutti l'intervento che farò oggi insieme al professor Moschini è un intervento che riguarda parte dei risultati ottenuto da un progetto europeo che ha avuto vita e che si è realizzato nel contesto della pianura padana tra le province di Cremona Milano e Piacenza il contesto è un contesto che richiede alcune precisazioni allora questo progetto europeo come appunto torno un secondo indietro si vede appunto dalla prima slide della presentazione è un progetto che si chiama è un progetto LIFE finanziato dall'Unione Europea che si chiama The Tooth Get Going quindi i duri incominciano a giocare e che riguarda la filiera lattiero-casearia di due importanti DOP una DOP nazionale quindi grana padano e una DOP francese quindi anche calato all'interno di un contesto francese ma il contesto ben più ampio da cui prendono vita i progetti europei ma anche i piani di sviluppo rurale il progetto come abbiamo sentito ieri ed oggi Benalat e tutte le forme di ricerca che riguardano i nostri territori rientrano in un contesto molto più ampio che è quello di migliorare l'efficienza dei processi produttivi al fine di migliorare l'intera catena del valore delle filiere in questo caso delle filiere zootecniche più nel particolare delle filiere lattiero-casearie fin da alcuni anni a questa parte la Commissione europea ha fissato degli obiettivi ambiziose degli obiettivi importanti da raggiungere in vari step al 2020 al 2030 al 2050 con l'obiettivo di ultimo di andare a ridurre quella che è la ricaduta ambientale del settore zootecnico da un lato ma di tutti i settori che vedono l'impiego appunto dell'uomo le responsabilità dell'uomo quelli che sono appunto i settori antropici e questi progetti europei entrano perfettamente all'interno di quelli che sono gli obiettivi del New Green Deal e della strategia Farm to Fork quindi indirizzare i settori tra cui anche il settore dell'allevamento e lattiero caseario verso forme di energie rinnovabili migliorare quelle che sono le tecniche disponibili andando ad adottare all'interno delle filiere produttiva delle azioni che portano a una riduzione delle emissioni in vari comparti non solo di gas serra ma ad esempio riduzioni di quelli che sono i fenomeni di acidificazione e utrofizzazione consumo di acqua consumo di suolo in un'ottica di economia circolare quindi valorizzazione di ciò che il nostro settore produce per reimmetterlo all'interno del settore e creare un valore ambientale e al tempo stesso economico questo progetto di ricerca che sta terminando proprio in questi giorni il 30 di giugno terminerà ha avuto una durata di 5 anni ed è stato coordinato ed è coordinato attualmente dal dipartimento di energia di Politecnico di Milano la nostra università insieme al Politecnico di Milano con i dipartimenti di energia e di design e la nostra università con i dipartimenti Diana che oggi noi rappresentiamo ed Istas sono stati veri e propri protagonisti perché hanno collaborato per anni a vari livelli andando a coinvolgere associazioni che tutelano i prodotti DOP a livello nazionale europeo spin off e start up che si occupano di efficientamento energetico per migliorare quella che è l'efficienza produttiva e migliorare in un'ottica di crescita della sostenibilità principalmente ambientale ma in parte anche economica poi vi mostrerò come la filiera del Grana Padano come filiera rappresentativa del nostro territorio del nostro areale attenzione però perché i risultati che noi abbiamo ottenuto su una DOP così complessa come quella del Grana Padano sono poi trasferiti e li abbiamo trasferiti al settore a quello che è una delle DOP rappresentativi dalla Francia che ovvero il Comte e quindi abbiamo collaborato e instaurato tavoli importanti di lavoro con il Centro Nazionale Interprofessionale dell'Economia Lattiero-Casearia Francese quindi non solo un risvolto territoriale ma un risvolto all'interno dell'Unione Europea dove questi progetti sono finanziati l'obiettivo qual è e qual è stato e cosa stiamo lavorando in questi ultimi giorni cosa stiamo portando a termine l'obiettivo principale oltre quello di ricostruire il sistema produttivo dalla stalla fino al fine vita del prodotto in questo caso del formaggio pasta dura grana padano oltre a ricostruire appunto la filiera in termini di impatto sull'ambiente abbiamo sviluppato uno strumento un software per calcolare e ridurre l'impronta ambientale in questo contesto per i formaggi a denominazione di origine protetta ma questo è un software come poi vi mostrerò che può essere adattato anche ad altre produzioni agroalimentare su scala nazionale diverse da quelle lattiero-casearie ad esempio la filiera della pasta la filiera della carne dell'olio del vino abbiamo adottato come previsto dal progetto un metodo europeo che è il Product Environmental Footprint un metodo che prende vita in Europa nel 2013 purtroppo poco utilizzato anche se conosciuto per la sua complessità di interpretazione metodologica e di applicazione pratica nella realtà appunto negli schemi di calcolo degli impatto ambientali lo scopo qual è? lo scopo ultimo è quello di andare a ottimizzare da un lato le prestazioni ambientali e dall'altro quelle economiche quindi portare anche ad un maggior retribuzione e valore economico delle nostre DOP sia su scala nazionale europea che oltre all'Europa quindi anche l'export risente di progetti di questo tipo di risultati di questo progetto perché viene riportato un valore aggiunto alle DOP che noi andiamo a esportare in paesi esterni a quelli dell'Unione in più l'obiettivo e uno degli scopi veramente fondamentali è la comunicazione di risultati di ricerca di questi progetti di questo progetto in particolare perché questo risponde a quelle che sono le esigenze attuali e futuri come abbiamo visto prima che riportate dal dottor Rosati di andare a educare istruire il consumatore finale e andare ad aumentare quella che è la consapevolezza ambientale appunto di tutto ciò che è fuori dalla 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 catena di valore del prodotto quindi di tutto ciò che viene dopo quindi i consumatori arrivare a distruirle educarli spiegar loro cosa si svela cosa c'è dietro ad un sistema produttivo l'approccio il nostro non è un approccio del singolo noi non andiamo a studiare l'effetto del singolo su una filiera noi andiamo a studiare la filiera come parte inclusiva e integrante di diversi attori che hanno compiti ben specifici quindi un approccio questo di filiera dove abbiamo ricostruito attraverso dei campioni rappresentativi delle varie realtà a vari livelli tutta la filiera quindi le stalle abbiamo creato dei benchmark dei valori medi che riguardano gli allevamenti la trasformazione quindi i caseifici i confezionatori i stagionatori prima i confezionatori la distribuzione e il trasporto di quello che è il latte le forme e i prodotti che arrivano a scaffale abbiamo creato una stratificazione della popolazione che per quanto riguarda il nostro settore quindi il settore della produzione del latte ha interessato la realizzazione di un campione rappresentativo di 68 realtà produttive 68 realtà produttive frutto di una popolazione iniziale di 4.000 stalle ridotta a 1.300 perché abbiamo considerato le stalle per i quali avevamo la possibilità di accedere a dei dati quindi iscritte alle associazioni provinciali allevatori attraverso cui l'indirizzo produttivo grana padano 30 in grana il livello produttivo degli animali il numero di vacche e lattazioni sono stati i tre fattori che ci hanno portato a creare un campione rappresentativo di una realtà produttiva estremamente complessa che è quella della produzione del latte perché una cosa importante da ricordare è che se da un lato noi riusciamo a standardizzare e quindi a creare con più facilità un campione rappresentativo di caseifici stagionatori confezionatori la produzione del latte è una delle fasi se non la fase più complessa all'interno di questa catena di valore perché come vedremo poi nella slide successiva la produzione del latte può avvenire in pianura in montagna in allevamenti di piccole dimensioni di grande dimensioni con razze differenti a conduzione familiare in sistemi cooperativi con o senza terra con l'impiego di strumentazione e tecnologia sofisticata oppure ancora con sistemi di allevamento con stabilazioni ormai oggi in parte anche obsolete quindi bisogna cercare di ricostruire al meglio il sistema di produzione del latte per poterlo rappresentare al meglio come vi dicevo un progetto di questo tipo ha avuto anche un riscontro a livello europeo perché le nostre interpretazioni metodologiche come vedremo del metodo PEF è stato poi anche trasferito in un'altra DOP che è appunto la filiera del COMT andando quindi a campionare a rappresentare questa filiera in 35 allevamenti e in 15 realtà tra caseifici e stagionatori quindi il trasferimento dei risultati è un qualcosa di estremamente importante perché fa sì che questi risultati che questo modo di approcciarsi al problema questi nuovi metodi di approccio al problema possono essere applicati anche in realtà differenti di quelle che sono ad esempio la pianura padana quindi realtà che vanno che simili nella produzione di formaggi a pasta dura anche in altri contesti europei il metodo come vi ho anticipato poco fa il metodo che noi abbiamo utilizzato è il product environmental footprint perché questo è un metodo innovativo ed estremamente efficace e importante seppur complesso nella sua interpretazione questo progetto ha durato circa cinque anni noi abbiamo impiegato due anni per interpretare il metodo due anni per capire come applicare delle formule per il calcolo ad esempio del metano del protossido d'azoto per il calcolo della produzione di particolato per le emissioni dalla distribuzione di effluenti in termini di metalli pesanti perché ad esempio perché è complesso perché appunto questo metodo ha la funzione di andare a fornire una armonizzazione nell'applicazione di studi di impatto ambientale tra i paesi membri fino al 2013 che conduceva uno studio di impatto ambientale attraverso l'analisi del ciclo di vita di prodotto poteva fare fondamentalmente quello che gli pareva perché al di là che fosse normato come lo è da standard internazionali il life cycle assessment può essere condotto con le regole che noi decidiamo di adottare quindi con un'unità funzionale su cui far ricadere l'impatto decisa da noi ad esempio con sistemi di allocazione con indicatori di impatto che noi decidiamo il metodo PEF ti obbliga ad utilizzare delle linee guida che siano chiare e condivise tra i paesi membri quindi il risultato che noi otteniamo attraverso lo studio del ciclo di vita di prodotto è confrontabile e comparabile nella stessa nazione o tra nazioni differenti per lo stesso prodotto o comunque un prodotto che abbia le caratteristiche simili tra i paesi non solo espressione del risultato attraverso il climate change quindi l'indicatore i gas ad effetto serra i potenziali di riscaldamento globale non solo un indicatore ma 16 indicatori di impatto ambientale 16 indicatori che possono essere caratterizzati quindi espressi per una propria unità di misura oppure normalizzati e pesati andando a creare attraverso un punteggio singolo un unico indicatore di impatto ambientale e questo è un qualcosa di rivoluzionario a livello europeo perché mette tutti i paesi sullo stesso piano nel condurre uno studio del ciclo di vita di prodotto e per noi che ci occupiamo di questi aspetti questo metodo è rappresentativo e deve essere utilizzato peccato che oggi viene utilizzato in ambiti di progetto di ricerca perché la sua applicazione richiede molto tempo ma vedremo che grazie ai risultati di questo progetto la sua applicazione di tempo ne richiederà veramente poco perché il nostro tool implementa questo metodo questa slide si ricollega a quanto visto poco fa quanto vi ho accennato poco fa scusate è la produzione del latte qui potremmo star qui una giornata e cercare di capire come avviene la produzione del latte quali sono le sostanze che vengono emesse da una delle categorie o da più di categorie di input di fattori produttivi che entrano ma che al tempo stesso escono da quella che è la gestione del nostro allevamento e ricostruire questo schema all'interno di un metodo europeo all'interno dell'approccio che noi abbiamo abbiamo adottato ha richiesto veramente anni di lavoro però devo dire che con grande soddisfazione contro anche aspettative iniziali siamo riusciti a ricostruire quello che è un corretto una corretta ricostruzione del sistema di produzione del latte nel nostro areale della pianura padana nell'areale del grano padano l'innovazione che porta un progetto di questo tipo che apporta l'idea progettuale qual è? è l'innovazione è quella di creare un approccio attraverso la metodologia integrata della product environmental footprint un approccio che vada a coprire in modo sistemico tutta la filiera tutta la catena di valore come? costruendo uno strumento di supporto alle decisioni ambientali quindi un software un software che vada a valorizzare i prodotti a marchio DOP IGP ma che vada a valorizzare l'intera filiera cos'è il software che noi abbiamo creato ora premetto che questo non è un intervento commerciale dove noi pubblicizziamo il nostro software primo perché non abbiamo bisogno secondo perché non è questo il contesto questo che voglio raccontarvi oggi è un esempio è una ricaduta pratica e reale di un qualcosa che non è fino a se stesso di un qualcosa che dal primo di luglio sarà disponibile per le DOP che ne faranno richiesta con dei costi veramente irrisori ma non terminerà col primo di luglio perché questo software è l'inizio di una cammino verso uno sviluppo sostenibile dei prodotti non solo lattiero caseari perché l'approccio che noi abbiamo adottato è un approccio che può essere utilizzato come vi ho anticipato prima anche per altri contesti produttivi quindi questa è un'applicazione web si accede tramite internet e si inseriscono le proprie credenziali ed è un approccio come vi ho detto integrato che abbraccia tutta la filiera qual è l'obiettivo e cosa fa questo tool ha l'obiettivo di far conoscere i vari attori tra la filiera molto spesso quando noi andavamo raccogliere dati perché abbiamo raccolto dati primari negli allevamenti molto spesso l'allevatore all'interno del circuito del grano padano può capitare spesso capita che il latte non lo consegni non lo conferisca direttamente a un caseificio ma ad un raccoglitore latte beh molto spesso l'allevatore non sa dove va il suo latte e così la caseificio non sa o meglio lo sa in un discorso di tracciabilità ma lì per lì non conosce i propri allevamenti da cui deriva il latte bene questo tool inizia a far conoscere a far comunicare le varie realtà produttive perché in questo software in questo strumento decisionale è il caseificio che deve inserire l'allevatore e far sì che l'allevatore possa compilare le proprie schede le proprie valutazioni ambientali e a ritroso vi è un richiamo delle prestazioni ambientali di tutti gli attori quindi lo stagionatore chiamerà l'impatto ambientale dei caseifici da cui proviene il formaggio il confezionatore l'impatto ambientale dello stagionatore da cui deriva il formaggio in un'opera di comunicazione tra le parti e quindi di condivisione del problema perché se noi abbiamo un anello della filiera che mostra delle criticità nella produzione del suo prodotto il problema non è soltanto dell'anello della filiera è un problema condiviso e quindi deve essere risolto all'interno grazie alla sinergia tra i vari attori l'obiettivo che ha anche questo tool e che ha il metodo PEF in questo approccio è il confronto perché noi abbiamo realizzato con il progetto europeo LIFE abbiamo realizzato dei benchmark dei valori medi di produzione di latte destinato a trasformazione in grana padano in trenta in grana di trasformazione caseario in caseifici di piccole, medie e grandi dimensioni di confezionamento e di trasformazione e di distribuzione abbiamo dei valori medi rappresentativi della filiera per i quali ogni consorziato a seconda della realtà che occupa nella filiera può confrontarsi e quindi vedere le disparità vedere le criticità e cosa lo accomuna cosa la differenza gli uni dagli altri in più permette di andare a mitigare ciò che prima dicevamo che veniva appunto giustamente detto dal dottor Rosati che questo è già un sistema efficiente il sistema italiano di produzione della tiro-casiaria è efficiente sia in termini di quantità produttiva ma più che altro in termini tecnologici e gestionale delle nostre realtà produttiva però richiede seguendo gli obiettivi europei un ulteriore sforzo per mitigare ancora di più l'impronta ambientale di ogni anello della catena e cosa fa il tool? Fornisce delle indicazioni chiare e precise per da attribuire a quelli che sono le criticità i hot spot che vengono individuati nella filiera per migliorarne le prestazioni ambientali quindi l'allevatore accede al tool parliamo ora di allevatore inserisce i propri dati che vanno dalla composizione della mandria all'acquisto produzione degli alimenti consumi energetici gestione di effluenti materiali da lettiera e così via effettua il tool lo studio dell'impatto ambientale applicando la metodologia della product environmental footprint secondo un'analisi di ciclo di vita di prodotto e il software genera un report un report che poi potrà essere validato da un verificatore che va ad attestare il corretto inserimento dei dati ed eventuali incongruenze nell'inserimento dei dati quindi è uno strumento che è aperto ai consorziati che è anche nelle mani del consorzio in questo caso del grano padano ma che domani può essere in mano ad un altro consorzio come ad esempio parmigiano reggiano asiago provolone valpadano e così via e questo software permette inoltre alle realtà consorziali quindi ai consorzi di poter creare delle statistiche vedere l'andamento delle filiere produttiva che il consorzio stesso tutela e rappresenta e andare a calcolare quelli che sono gli indicatori principali e fare comunicazione al consumatore finale andando a parlare del progetto appunto di sviluppo sostenibile della filiera all'interno appunto di un settore agroalimentare qual è la situazione che è cambiata rispetto a qualche mesi fa e ad oggi con o senza l'impiego di uno strumento di questo tipo senza l'impiego di uno strumento di questo tipo la raccolta dei dati e l'allaborazione di modelli di calcoli prendendo da un metodo europeo deve essere fatta da una filiera da un consulente ambientale attenzione però che serve fin da subito un verificatore che vada a verificare come sono stati elaborati i modelli di calcolo come sono stati inseriti i dati e la conformità ad un metodo europeo con un tool di questo tipo noi abbiamo già due verifiche che sono state effettuate di cui una è in corso una verifica da parte di ente terzo quindi di una società di verifica che ha verificato l'applicazione del metodo nella realizzazione dei benchmark quindi di valore medi di confronto e una verifica da parte di CSQA quindi l'utilizzo di questo tool può avvenire da chiunque di noi che inserisce i dati e il verificatore entra soltanto nella parte finale di valutazione dell'impronta ambientale come andando a verificare che i dati inseriti siano corretti il verificatore chi sarà sarà uno di noi un membro della nostra università del nostro dipartimento che dovrà far altro che fare quelli che vengono definiti i conti della serva andare a vedere se il numero di animali inseriti a seconda della produzione di latte degli ettari lavorati siano congruenti siano corretti va detto anche questo che questo tool ha già dei panel di controllo è un tool molto complesso basti pensare che per la sola fase di stalla abbiamo circa 70.000 celle che contengono formule e 400.000 celle di dati da dati di selezione domande vari coefficienti e formule nel loro insieme perché come vi dicevo la produzione del latte al cancello dell'allevamento è molto complessa e noi siamo stati attenti a creare un qualcosa di estremamente dettagliato quindi creare un programma di questo tipo consente prima di tutto una responsabilità responsabilizza i vari attori della filiera che per la prima volta vanno a inserire i loro dati all'interno di uno strumento e vedere le loro proprie prestazioni ambientali ad individuare i propri hotspot e andare a fare una comparazione con benchmark di filiera benchmark territoriali quindi valori medi che ne consentano poi uno stimolo del miglioramento della filiera stessa ma soprattutto è il fattore tempo ciò che prima impiegavamo dai 10 ai 20 giorni di lavoro per poter effettuare uno studio di impatto ambientale oggi con uno strumento di questo tipo impieghiamo dai 40 ai 60 minuti il fattore tempo è fondamentale per un processo di miglioramento della filiera stessa e in più l'elaborazione di soluzione di efficientamento a tutti i livelli dalla stalla alla trasformazione al confezionamento e stagionatura come già avviene per i quali abbiamo anche analisi energetiche che permettano di definire sia un risparmio energetico in termini di costi sia una sostenibilità in termini ambientali ciò che viene rilasciato l'allevatore ciò che rilascia a questo programma è un report è un report dettagliato che è spendibile per certificazioni ambientali dove viene fatto un confronto dove si riportano i vari activity data che sono stati prodotti cioè i dati di inventario utilizzati per la stima dell'impatto ambientale in confronto con i dati di inventario medio dell'areale di produzione della DOP dell'areale di produzione in questo caso del latte fa una panoramica dell'impronta ambientale andando a inquadrare le varie fasi oggetto di analisi esprime i risultati per 16 indicatori di impatto e in più abbiamo sempre focalizzato l'attenzione su quello che è l'indicatore di impatto più ormai conosciuto che è la carbon footprint infine fornisce delle idee di mitigazione che al momento sono soluzioni statiche dal primo di luglio nell'ottica di altri progetti e ci auspichiamo di inserire il nostro risultato all'interno di piani dei PNRR andremo a sviluppare delle soluzioni di mitigazione che sono individuali calate nella realtà agricola di ogni stalla con la possibilità che effettivamente vengano applicate perché le soluzioni di mitigazione che noi proponiamo oggi la loro applicazione dipende da cosa? Dipende dalla capacità di investimento dell'allevamento dipende dalla gestione dell'allevamento il nostro obiettivo è quello di arrivare al sodo al dunque arrivare a qualcosa di concreto per dare una risposta tangibile al settore zootecnico e per dare una risposta tangibile al consumatore che è sempre più esigente concludo la mia presentazione con questa slide perché questo strumento si abbraccia veramente in modo importante a quella che il nostro paese ciò che il nostro paese ha fornito negli ultimi tre anni il nostro paese i nostri ministeri o l'attuale ministero della transizione ecologica a partire dal 2018 ci ha fornito una grande opportunità che è quella di condividere con il consumatore finale con la filiera dei risultati che derivano da una certificazione ambientale che attenzione non è come alcuni sostengono un semplice bollino da porre da sulla confezione questo è il marchio Made Green in Italy che è uno schema volontario voluto dal ministero della transizione ecologica regolamentato nel 2018 che ha la funzione di responsabilizzare la filiera è un marchio che ha una validità di tre anni che prevede l'elaborazione di regole di categorie di prodotto creazione di benchmark e di classi di prestazione ed è un marchio creato per chi rappresenta il 50% più 1 del valore economico di una DOP bene con i risultati di questo progetto nel 2020 Grana Padano grazie al lavoro dei nostri dipartimenti dell'università cattolica ha ottenuto è stata la prima dopo in Italia ad ottenere il marchio Made Green in Italy e ha aperto la strada ad un tavolo di lavoro anche con altri consorsi come provolone valpadano e pecorino romano perché dico che è un atto di responsabilità perché questo marchio è un marchio che viene dato sotto condizione la condizione è questa individuare le classi di prestazione ambientale queste classi di prestazione ambientale sono le classi A, B, C entro le quali gli attori della filiera possono rientrare nella classe C non si ha diritto al marchio nella classe B si ha diritto sotto condizione che è il miglioramento nei tre anni di validità del marchio nella classe A si ha diritto al marchio e non bisogna apporre dei miglioramenti attenzione che le classi di prestazione vengono stabilite durante la redazione delle regole di categoria di prodotto che spetta la DOP che fa richiesta del marchio e che vengono messe a disposizione degli attori della filiera di quella DOP quindi Grana Padano detiene le regole di categoria di prodotto e un caseificio della filiera del Grana Padano che vuole ad accedere a queste regole di categoria di prodotto deve sottostare quelle classi di prestazione che la DOP ha stabilito e siccome le classi di prestazione le abbiamo stabilite noi abbiamo fatto sì che gli allevamenti non ricadessero tutti nella classe A perché altrimenti è facile ci certifichiamo e finisce qui no abbiamo fatto in modo che richiadessero all'interno della classe gran parte della classe B siamo stati molto molto per così dire intransigenti sul fatto di andare a valorizzare i prodotti a basso impatto ambientale in questo modo la filiera che accede ad un marchio di questo tipo se rientra se parte dei propri consorziati rientrano nella classe B è impegnata per tre anni a dare prova del miglioramento delle prestazioni ambientali di quell'attore di quella filiera ed è qui che appunto si ritorna alla primo slide ed è qui che si ritorna a quello che è il contesto in cui questo strumento nasce che è lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'Europa che come ripetiamo ha già un sistema produttivo altamente efficiente e di qualità per i propri prodotti ma ciò che manca e questo il metodo PEF purtroppo è carente è la comunicazione cioè noi dobbiamo comunicarle queste cose dobbiamo arrivare al consumatore prima di tutto dobbiamo iniziare noi che lavoriamo nelle università negli enti di ricerca per arrivare al consumatore che deve essere educato cioè questo bullino qua il consumatore uno lo deve capire due deve capire l'impegno che sta dietro una filiera in modo tale da valorizzarla concludo dicendo che il nostro settore zootecnico nazionale per come l'abbiamo studiato noi nella reale della pianura padana è un settore zootecnico molto complesso nelle sue produzioni nelle sue realtà produttive ma che ha una grande attenzione nel migliorarsi basta vedere basta notare tutte le forme di finanziamento che dall'Europa arrivano e che vengono recepite dagli allevatori e dagli agricoltori quindi certo il vantaggio che deve portare uno strumento di questo tipo non è soltanto comunicare le proprie prestazioni ambientali ma quello che dovrà portare è anche un vantaggio di tipo economico è vero che ciò che manca oggi è un riconoscimento dell'impegno da parte della filiera al primo nello della catena che è l'allevatore quindi un riconoscimento anche da un punto di vista economico non giustifica l'impegno dell'allevatore ma anzi lo sostiene lo sostiene e quindi il nostro sviluppo futuro di questo tool sarà anche quello di andare a capire meglio quali sono i risvolti economici dell'applicazione di una misura di mitigazione rispetto ad un'altra in modo tale da valorizzare e andare a considerare quelle che sono tutte le sfere della sostenibilità non soltanto ambiente società ma anche la sfera economica quindi questo che vi ho raccontato appunto è un esempio di un qualcosa di concreto di uno strumento concreto che nasce nel nostro territorio per il nostro territorio ma per la nostra nazione abbiamo già molti contatti grazie a Cibus grazie a varie piattaforme appunto che ci permettono di divulgare le nostre esperienze fondamentalmente con altre DOP diverse da noi diverse dal settore lattiero-casiario stiamo lavorando anche con alcune DOP con alcuni prodotti della trasformazione animale quindi della carne che ovviamente prevede uno stravolgimento dello strumento ma che vede comunque sempre gli obiettivi ultimi che è quello di incrementare la sostenibilità sensibilizzare produttori e consumatori nel cammino verso quelli che sono gli obiettivi europei verso lo sviluppo sostenibile del nostro paese del nostro settore agroalimentare grazie a tutti e grazie per averci dato l'opportunità di raccontare questa storia grazie a tutti di patos perché effettivamente si vede la passione e a questo punto dottor Stefano dell'istituto dell'istituto di biotecnologia agraria del CNR approcci data driven per l'analisi di caratteri complessi anche tu Stefano hai 30 minuti si può darsi che riesca anche a recuperare qualcosa vediamo come procede allora innanzitutto buongiorno a tutti sì il titolo è abbastanza interessante e anche abbastanza attraente almeno dal mio punto di vista nel senso che tra l'altro abbiamo appena avuto un esempio di come le decisioni o le scelte su alcuni aspetti possono essere guidate dai dati e quindi lo abbiamo appena visto e tra l'altro è interessante perché l'intervento che abbiamo appena ascoltato insomma parlava di aspetti diversi rispetto a quelli che io vi presenterò ma che hanno un comune denominatore che sono appunto l'utilizzo delle informazioni per poter gestire un qualcosa una problematica o un obiettivo da raggiungere quindi oggi io di che cosa parlerò vorrei innanzitutto così fare una piccola introduzione su quello che alcuni aspetti legati a questa nuova questo nuovo trend ne abbiamo già sentito parlare tante volte di questi big data quindi tutte queste informazioni di tipo massivo che ci arrivano e più che ci arrivano che sono disponibili e che possiamo cogliere l'occasione di sfruttare al nostro vantaggio e come da queste noi possiamo appunto utilizzarle per fare per raggiungere alcuni obiettivi e quindi alcune definizioni riguarda questo ma anche una serie di problematiche che riguardano l'utilizzo di questi dati e che spesso ci confondono soprattutto a chi fa ricerca o all'utilizzatore finale quindi in particolare degli aspetti legati a quello che è il concetto di inferenza o predizione e poi la seconda parte volevo farvi vedere come in effetti ci si possa far guidare dai dati per fare predizione e quindi volevo portarvi un esempio concreto di applicazione di data driven approach nel caso dei bovini da latte e quindi in particolare la predizione dello stato sanitario della mammella utilizzando metodi ovviamente di machine learning e quindi di apprendimento meccanizzato e dati di campo quindi fondamentalmente i controlli funzionali due considerazioni che devo dire che si ricollegano a quanto abbiamo visto prima ma anche a quello che diceva questa mattina nel primo anzi nel secondo intervento ma anche nel primo a dire la verità sia l'amico Andrea e il professor Paolo e cioè che se non abbiamo dati le nostre sono solamente opinioni e mi ricollego in particolare alla questione delle emissioni di metano sulle quali io concordo perfettamente con quello che dicevi che ci sono un sacco di opinioni però poi dopo quando andiamo a guardare davvero i dati o quello che ci dicono i dati insomma la faccenda un pochino cambia e alla stessa misura devo dire che io sento sempre molta gente che si lamenta sulla qualità dei dati però insomma c'è questo signore questo matematico Charles Babbage che tutti considerano un po' il padre dei computer insomma lui una tra le sue varie affermazioni c'era questa che leggete qui e che comunque insomma si commettono molti meno errori ad utilizzare dei dati che hanno anche sbagliati che non ha a non utilizzarli per niente anche perché comunque le metodiche che poi noi abbiamo a disposizione tipo ad esempio quello che in gergo si chiama data mining cioè il fatto di cercare dentro i dati ci mettono sempre in grado ci danno noi abbiamo gli strumenti per identificare quelli che sono dati migliori rispetto a dati peggiori e quindi le critiche che spesso si fanno anche a dati inadeguati secondo me anche queste sono un po' insomma di parte direi perché noi abbiamo gli strumenti per poterli riconoscere come vi dicevo io vorrei cominciare a parlare di big data credo che ormai sia un termine che è entrato insomma nel lassico di tutti i giorni anche perché se ne parla in tutte le salse devo dire e c'è sicuramente un interesse crescente in questi dati anche perché onestamente è molto più facile rispetto a prima raccoglierli anche perché abbiamo strumenti che ci permettono di raccoglierli quindi se guardiamo nel nostro settore nel settore animale ovviamente abbiamo tutta la sensoristica che ci permette di raccogliere dati in tempo reale sugli animali se la guardiamo nel campo più del laboratoriale diciamo così abbiamo tutta una serie di tecniche di sequencing insomma che hanno hanno stravolto nel senso positivo del termine ovviamente nella sua accezione positiva un sacco di tecnologie quindi il sequenziamento il microbioma adesso insomma voglio dire ci sono un sacco di esempi che dimostrano quanto ci siano dati dai quali possiamo raccogliere informazioni e devo dire che la definizione in realtà poi dopo dipende molto dalla disciplina in cui ci troviamo perché tanto per farvi due esempi molto banali li faccio abbastanza spesso perché comunque sono non rientrano nel nostro settore animale ma rientrano nella nostra vita e le nostre tesserine che credo tutti noi utilizziamo al supermercato raccolgono dei dati dei dati che vengono poi utilizzati per strutturare le vendite o per strutturare la gestione del il flusso dei prodotti eccetera eccetera un'altra cosa che mi ha colpito che mi ha colpito è che ad esempio se voi vi collegate a un sito di viaggi aerei e volete comprare un biglietto aereo il prezzo che vi comparirà cambierà a seconda della localizzazione geografica in cui voi vi trovate e anche dell'orario in cui voi fate questo acquisto e questo di nuovo è collegato ai dati che vengono raccolti diciamo che ci sono anche altre si è cercato comunque di classificarli questi big data in qualche modo e c'è la famosa regola delle 3v o 3v insomma che in realtà adesso stanno diventando 4 o 5 le v ma insomma rimaniamo con queste tre e che li definiscono li definiscono la prima è la quantità quindi il volume la prima busta per il volume e quindi la quantità di dati sono enormi e diciamo che uno dei primi metodi per definire il volume è il fatto che per esempio dei big data io ho grossissime difficoltà a visualizzarli perché sono talmente grandi che non riesco a metterli in un grafico e quindi devo usare delle forme di campionamento per esempio per visualizzarli questa è un'idea di volume l'altra riguarda la varietà e quindi abbiamo tipi di dati estremamente variabili quindi possiamo partire dalle immagini come per esempio anche nel settore dell'animal science ormai si stanno utilizzando le immagini per fare molte cose i suoni io ricordo che nel 2016 anzi nel 2015 quando c'è stato l'expo abbiamo collaborato con un ricercatore olandese che utilizzava i suoni per controllare le infezioni polmonari negli allevamenti suini e quindi registrando il livello della tosse all'interno degli allevamenti quindi l'utilizzo del suono i tempi che ne so i tempi di mongitura che possono essere adesso registrati molto facilmente o anche i dati omici e poi ecco l'altro avv è il tempo di generazione nel senso che oggi come oggi riceviamo in continuazione dati in particolare ad esempio con il robot di mongitura se vogliamo rientrare di nuovo nel nostro settore e ecco diciamo che il fatto di avere tutti questi tutte queste informazioni ovviamente ha portato alla nascita più che alla nascita direi di no perché molti pensano che il machine learning ma anche il data mining cioè queste tecniche di l'applicazione di algoritmi e anche per guardare nei dati e per fare della predizione sembra quasi che siano comparse oggi ma in realtà il metodo per esempio più semplice di machine learning è una regressione lineare una regressione lineare è machine learning perché io posso guardare dei dati e posso apprendere per esempio qual è l'incremento del peso rispetto all'altezza quindi diciamo che come al solito ci facciamo prendere un po' insomma dalle emozioni ma queste sono cose che esistevano già il data mining lo stesso cercare l'errore all'interno dei dati e diciamo che è chiaro che sicuramente ci ha aiutato il fatto di avere computer molto più potenti e quindi la possibilità di applicare metodi e modelli molto più sofisticati e che quindi mi permettessero di sfruttare molto meglio la struttura dei dati che sto osservando per fare sicuramente delle predizioni e quindi per cercare di predire o stimare il valore di una determinata variabile come può essere l'essere malato oppure no ma può essere anche il livello produttivo o può essere anche per esempio il valore genomico di un individuo quindi in realtà noi stiamo facendo forse in maniera più efficiente cose che abbiamo sempre fatto è un po' come l'approccio è come l'utilizzo della genomica nel senso che probabilmente prima quello che ci limitava era un po' l'assenza di strumenti adeguati per poterla portare avanti d'altra parte se noi guardiamo nel nostro settore nell'animal science i big data sono già utilizzati per fare tante cose perché al di là del fatto che appunto se guardiamo ad esempio il bovino da latte e se voi vi prendete il dataset completo dei controlli funzionali della razza frisona in Italia l'ha detto ieri c'era qua il direttore della NAFI BJ insomma corrispondono a diversi milioni di record lo stesso vale per le altre razze quindi la razza bruna la pezzata rossa quindi voglio dire che noi big data le stiamo utilizzando già da tempo e le stiamo utilizzando per fare tante cose le stiamo utilizzando per fare predizione del valore genetico degli animali le stiamo utilizzando per fare per esempio identificazione di problemi sanitari come può essere l'identificazione di casi di mastite e le stiamo utilizzando per fare per imputare informazioni mancanti come ad esempio nel caso del genoma o li stiamo utilizzando anche ad esempio per identificare valori che deviano dall'atteso e quindi dovrebbero essere scartati questo è normale l'errore esiste in qualsiasi processo di raccolta dati possiamo pensare di non avere l'errore però possiamo pensare di avere sistemi che sono in grado di identificarlo l'errore ovviamente basandosi su approcci e statistiche ovviamente efficienti e funzionali e diciamo che l'altro passaggio importante e qui ecco introduco diciamo una grande differenza che secondo me va accolta soprattutto da chi come noi insomma si occupa di ricerca o sviluppa a volte progetti o modelli è quella che la differenza che c'è tra l'inferenza e la predizione sono due concetti che si sovrappongono molto ma che hanno alcune differenze e anche perché diciamo che noi con i dati cerchiamo sempre di spiegare qualche cosa quindi sviluppiamo dei modelli questa diapositiva diciamo che mette a confronto quello che era l'approccio classico e quello che in gergo si chiama il modello meccanistico meccanistic model e che si basa soprattutto sui principi biologici e che si basa soprattutto su input che vengono forniti dal ricercatore e quindi sulla base delle sue conoscenze sviluppa dei modelli e cerca di capirne e quindi fa inferenza cerca di capire quello che sta succedendo per poi dopo utilizzarli in forma diversa mi è piaciuto associare questo tipo di approccio con una chiave a stella la chiave a stella perché la chiave a stella perché la chiave a stella funziona esattamente per quel per quel dado per quella vite non per la 12 ci vuole una certa chiave per la 14 ce ne vuole un'altra per una 28 ce ne vuole un'altra nel caso invece quando io invece faccio predizione diciamo che sono meno interessato a quello che effettivamente succede ma sono più interessato al risultato finale e cioè sono interessato a fare una stima di un evento per esempio sono interessato a stimare ecco il fatto che un individuo sia sano o sia malato sono interessato a stimare se un livello produttivo è alto e basso e quindi ecco in questo caso mi è piaciuto il paragone con una chiave inglese nel senso che la chiave inglese si adatta non è perfetta perché potrebbe smussare la vite se usata in maniera sbagliata però diciamo che si adatta è molto più malleabile e quindi dipende molto ripeto dall'obiettivo che noi abbiamo questa differenza è importante perché soprattutto con i caratteri complessi quello che c'è stato quello il fatto di analizzare i caratteri complessi il fatto di avere nuovi strumenti per poterli analizzare in particolare strumenti genomici ha portato insomma all'utilizzo di diversi approcci ne abbiamo visto uno questa mattina il professor Paolo Aiman ce ne ha fatto vedere uno che è quello diciamo abbastanza tradizionale quello di fare degli studi di associazione e quindi si va a vedere se alcune regioni del DNA sono legate più o meno a un carattere di interesse il quale si presuppone abbia una certa componente genetica e questo è sempre stato l'obiettivo il nostro obiettivo finale ora questi tipi di approcci ecco perché predizione o differenza lo abbiamo visto anche questa mattina hanno identificato sì un sacco di zone interessanti però il problema è che se poi noi andiamo ad utilizzare queste zone che abbiamo identificato per ai fini predittivi non funziona mai così bene come quello che noi ci saremmo aspettati e ci sono diversi motivi del perché questo succede innanzitutto diciamo che questo approccio e quindi un approccio più legato all'inferenza cioè il cercare di capire piuttosto che cercare di prevedere non è una critica questa però è un diverso approccio all'obiettivo diciamo che uno dei motivi è sicuramente di tipo più matematico nel senso che nel momento in cui noi vogliamo trovare una significatività di un effetto abbiamo un sacco di predittori e quindi questo crea dei vincoli di tipo matematico e quindi diciamo che è un po' di autolesionismo nel senso che alla fine siamo obbligati per una significatività statistica a ridurre il numero di questi predittori e quindi fondamentalmente andiamo a tagliare cose che magari invece ci potrebbero aiutare a fare della predizione poi c'è un'altra questione l'abbiamo vista questa mattina tra l'altro il professor Paolo Einemann ci ha fatto vedere come ad esempio nel loro studio loro hanno utilizzato degli approcci diversi per andare a identificare le regioni hanno utilizzato il singolo SNIP ma il singolo SNIP ha delle grossi limiti perché in realtà spesso le regioni perché in realtà non è legato alla regione che mi interessa infatti loro hanno testato anche degli intervalli più ampi e magari non ve lo ricordate ma comunque si vedeva si coglieva dal Manhattan Plot che ci ha fatto vedere le differenze e poi ovviamente dipende da quante informazioni io ho per raggiungere questo obiettivo e in effetti gli autori di quel lavoro lì concludevano questo riportato quello che hanno scritto loro perché era estremamente interessante e cioè che comunque in una situazione odierna noi dove anche l'obiettivo è per esempio la predizione di un rischio ok se il nostro obiettivo è quello lì noi dobbiamo cercare anche di cambiare il nostro modo di pensare e quindi da un approccio che è finalizzato soprattutto all'identificazione di varianti associate al rischio più che altro invece passiamo invece a massimizzare il risultato finale cioè il soggetto è al rischio oppure no e scusate io qua ho fatto un esempio un po' terra terra all'effetto l'ho chiamato effetto Paris Saint Germain nel senso che Paris Saint Germain ha tre o quattro giocatori che ha pagato un sacco di soldi tantissimo però se voi vedete l'obiettivo che ha raggiunto mi sembra molto scarso e allora in termini di obiettivi ci sono delle squadre che hanno speso molto meno e quindi magari non hanno trovato il segnale significativo ma hanno raggiunto un obiettivo finale e ecco quindi che vi faccio vedere un esempio concreto e quindi facciamoci guidare dei dati per fare che cosa la mastite non credo che non mi dilungo su questa problematica perché continua ad essere uno dei problemi principali sia per gli animali che per per l'allevatore per chi ci guarda visto che oggi abbiamo parlato anche di quelli che ci guardano e quindi che cosa possiamo fare possiamo fare sicuramente possiamo capire quali sono le cause che portano la mastite e quindi qua facciamo dell'inferenza ma possiamo anche fare un passo avanti o un passo parallelo e quindi cercare di prevederla e quindi fare della predizione prevederla sulla base di altre informazioni che sono ad essa collegate che noi abbiamo disponibili come ad esempio le stesse cellule somatiche oggi magari mi informano di quello che succederà domani un altro tipo di cellule le cellule differenziali lo stesso diversi stati di lattazione l'azienda in cui l'animale si trova eccetera eccetera quindi ci sono delle informazioni io mi posso far guidare delle informazioni disponibili per fare della predizione quindi che cos'è che abbiamo fatto in questo esempio che voglio farvi vedere è prevedere lo stato di salute della mammella bovina nei vari momenti della sua lattazione utilizzando molto tra virgolette semplicemente i dati dei controlli funzionali quindi quelli che sono disponibili per tutti e lo abbiamo fatto utilizzando ovviamente approcci diversi di machine learning e questo perché comunque ci faceva piacere insomma farci del male e quindi ne abbiamo provati diversi e abbiamo qui trovate poi se volete tutti i dettagli insomma lo trovate in questa pubblicazione che abbiamo fatto con con diversi colleghi perché guidati dai dati beh guidati dai dati per un motivo molto semplice perché il nostro obiettivo era sapere cosa succederà alla mammella in termini ad esempio di cellule somatiche al tempo T beh quello che succederà al tempo T nella mammella di una bovina è probabilmente legato a quello che è successo al tempo T meno uno cioè nel momento precedente o può essere desunto da quanto è successo nel momento precedente e nel momento precedente io che cosa posso avere come informazione posso sapere l'animale in che momento l'adattazione sta posso sapere quanto erano le cellule somatiche posso sapere quando ha partorito quanto produceva come era il suo latte e quindi questo è un esempio concreto di analisi data driven perché perché ovviamente il mio obiettivo livello cellule al giorno X dipende da una serie di informazioni che io ho precedentemente e soprattutto da come queste sono correlate tra di loro e quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo utilizzato otto metodi diversi di otto metodi intesi come tipi di algoritmi diversi ognuno dei quali ha delle capacità o degli aspetti superiori o inferiori dipende dal tipo di obiettivo che noi ci raggiungiamo così per farvi un esempio molto terra terra voi pensate a un telefono di una volta e al telefono di adesso il telefono di una volta ad esempio noi digitavamo i numeri quindi mettevamo dentro dei parametri e lui eseguiva la chiamata nel telefono di oggi noi diciamo chiama a casa quindi noi non mettiamo più dei numeri quindi diciamo esula dal parametro però lui ha un algoritmo dentro che trasforma il mio comando in un parametro lo abbiamo fatto utilizzando oltre 18.000 controlli questi della frisone italiana e abbiamo utilizzato 15 variabili di campo 15 predittori quindi li vedete qua l'ordine di parto lo stadio di lattazione cose molto tra virgolette le chiamiamo banali o che io conosco da 30 anni forse a parte le cellule differenziali poi le altre insomma sono parametri che conosciamo tutti li abbiamo messi dentro e abbiamo utilizzato una ovviamente delle tecniche che si usano nel machine learning e quindi delle tecniche che sono chiamate in gergo di cross validation diciamo che sono delle tecniche che mi permettono che dividono il dataset iniziale in una parte in cui io testo il modello in una parte in cui faccio una validazione del modello e ovviamente perché voi dovete partire dal presupposto che questi dati questi approcci di machine learning cercano di non guardare il dataset nella sua singolo ma cercano di immaginare quello che può succedere a quel dataset in una situazione generale ed ecco perché esistono delle tecniche di campionamento che mi creano dei dataset dei sotto insiemi che dovrebbero in certo qual modo rappresentare tutto quello che noi osserviamo in campo quindi l'obiettivo qual è stato? riesco a stimare lo stato di salute della mammella al controllo successivo a partire dai diate disponibili al controllo precedente? beh il risultato è sicuramente estremamente positivo perché tutti i metodi li vedete qua elencati adesso non entro nel dettaglio ma la differenza di questi metodi è nella loro complessità si va dal dal primo in alto in alto che è una discriminante lineare insomma il metodo più semplice anche quello ancora parametrico a modelli molto più complessi tipo le reti neurali che sono in effetti rappresentano un po' un black box nel senso che è difficile capire esattamente che cosa facciano si guarda molto al risultato però ciò nonostante noi abbiamo visto che quasi tutti i sistemi riescono a identificare 75% con un'accuratezza del 75% riescono a identificare gli animali che avranno un livello di cellule superiore a un certo a 200.000 al controllo successivo quindi se noi lo guardiamo dal punto di vista pratica abbiamo 75 animali su 100 che noi riusciamo a identificare e quindi voi capite questo la portata anche dal punto di vista applicativo nel senso che io posso dare un'occhiata oggi a quello che c'è in stalla e posso identificare animali che potrebbero creare dei problemi in futuro l'altra cosa molto interessante è stata anche il fatto che noi abbiamo messo dentro tante variabili e molti criticano il machine learning perché non fa inferenza in realtà fa dell'inferenza perché quello che mi restituisce lo vedete qui per esempio è l'importanza di diversi effetti nella predizione e quindi assolutamente ad esempio il livello di cellule somatiche che mi aspetto al controllo successivo è fortissimamente legato al livello delle cellule somatiche che c'è oggi ma è legato anche ad altri aspetti è legato allo stato di lattazione è legato alle cellule differenziali è legato alle proteine e in percentuale diversa questo vuol dire che ecco perché è importante fare il campionamento e questo differenzia molto l'approccio machine learning dall'approccio meccanistico nel senso che io con questo tipo di approccio riesco ad osservare tutta la variabilità o dovrei osservare tutta la variabilità voglio dire in un esempio come questo come questo se voi guardate ad esempio l'effetto dei days in milk l'effetto dei days in milk può variare da un minimo del 10% fino a un massimo del 30% e questo è normale che sia così perché un animale nei diversi punti della sua lattazione può essere più suscettibile e poi ovviamente questo è più un aspetto metodologico non tutti questi questi histogrammi che vedete rappresentano l'errore che io commetto nell'utilizzare i diversi metodi nell'identificare un animale sano o un malato questo è importante perché ovviamente poi dopo i diversi metodi hanno un'efficacia diversa e quindi ad esempio il metodo che vedete la regressione ad alberi che è il primo a sinistra e un metodo baesiano che è quello centrale è quelli che hanno per esempio la maggior percentuale di falsi positivi anche lì poi dopo noi dovremo andare a identificare cos'è peggio dire che un animale è malato quando in realtà non lo è o perdere un animale o dire che invece un animale non è malato quando invece lo è quindi anche queste sono diciamo delle considerazioni che vanno fatte quando si scelgono i metodi o gli algoritmi da utilizzare arrivando a alcune considerazioni finali sicuramente questi tipi di approcci sia il machine learning ma adesso si parla ancora di più di deep learning insomma adesso poi farò una considerazione su questo sicuramente ci permettono oggi di fare cose che prima non si potevano fare ma più che altro perché abbiamo gli strumenti computer adatti a farlo c'è però da dire una cosa che io questo l'ho notato onestamente ma questo succede per tutto come era successo per le GVAS che si facevano GVAS su qualsiasi cosa oggi si sta facendo la stessa cosa con il machine learning e il deep learning c'è un articolo molto interessante di questi due ricercatori qualcuno credo che lo conoscerà per S&C insomma è un genetista molto famoso e hanno scritto questo lavoro è un lavoro dedicato tutto al deep learning però alla fine nelle loro conclusioni loro dicono questo cioè il deep learning è bellissimo però attenzione perché soprattutto ad esempio col deep learning se voi usate un dataset troppo piccolo state commettendo un grossissimo errore e quindi ed è io onestamente devo dire che questo è quello che sta un po' succedendo cioè che si stanno utilizzando alla fine tecniche che in realtà non sono adatte spesso per i dati che abbiamo l'altro problema di questi metodi ve l'ho detto all'inizio è l'interpretazione nel senso che alla fine vi restituiscono sano malato però alcuni di questi non sono in grado di dirvi che cosa esattamente l'ha generato quindi bisogna fare un po' di attenzione ad utilizzarli e l'altra cosa ecco secondo me bisogna appunto soprattutto quando sviluppiamo dei progetti quando sviluppiamo anche dei modelli o quando sviluppiamo delle prove sperimentali dobbiamo tenere presente questa qual è il nostro obiettivo finale se vogliamo fare della predizione o se vogliamo fare dell'inferenza perché se vogliamo fare dell'inferenza io ho notato purtroppo che molto spesso generiamo dati che non sono sufficienti a darci una risposta e quindi di dimensionare in maniera corretta il nostro esperimento dall'altro lato invece dice quando vogliamo fare predizione ci abbiamo nel machine learning questa è la cosiddetta maledizione della dimensione nel senso che uno dei problemi del machine cioè dei problemi uno degli aspetti che affronta il machine learning è quello di avere un sacco di predittori però anche lì se io ho 700.000 predittori ma ho pochi record o un dataset molto piccolo ho delle altre problematiche quindi è importante quando sviluppiamo i nostri progetti insomma avere ben chiara questo possibile e poi ecco concludo con questo che in effetti ad esempio quello che vi ho fatto vedere con la frisone italiana è un esempio di decisioni guidate dai dati e tra l'altro quello per esempio può essere molto facilmente applicato tra l'altro ci stiamo anche pensando insomma anche in collaborazione con AFBJ per fare una cosa del genere e quindi sviluppare ad esempio uno potrebbe avere una pagina web dove tu inserisci i dati della tua bovina e hai il rischio che al prossimo controllo sia alto o bassa e quindi ti puoi fare una lista e vedere che cosa succede agli animali mi fermo qui alla fine volevo fare presto ma alla fine neanche tantissimo io vi ringrazio ringrazio ovviamente anche Tania Bobbo che ha lavorato insieme a me soprattutto su questa parte e poi ovviamente anche Alessandra Stella e quindi niente io vi ringrazio e lascio la parola tra l'altro a un argomento che in parte forse si collega quindi viene bene grazie grazie Stefano bene adesso abbiamo la dottoressa Sara Pegolo dell'università di Padova dipartimento d'Apne scienze omiche per lo studio e il miglioramento della salute della mammella buongiorno a tutti 30 minuti anche a lei 30 minuti anche a lei buongiorno a tutti io lavoro sono ricercatrice appunto presso il dipartimento da FNAE università di Padova e lavoro con il professor Cecchinato che vi ha parlato ieri dell'applicazione delle tecnologie di infrarosso proprio per il miglioramento del benessere della qualità delle produzioni animali grazie allora vi faccio solo una brevissima introduzione sulle tecnologie omiche diciamo è un termine che ormai di cui si sente parlare ormai da circa un ventennio sono nati diciamo all'inizio per quanto riguarda applicazioni relative all'umana e poi più recentemente sono state applicate diciamo anche quelle che sono le scienze animali e si è voluti diciamo passare da un approccio se vogliamo più riduzionista quindi da una sorta di disaggregazione di fenomeni complessi in aspetti più semplici a una visione più sistemica della scienza quasi olistica di system biology proprio data driven come appunto giustamente ha detto insomma il dottor Biffani la prima nascere appunto è stata la genomica quindi si è andato a valutare quello che può essere l'effetto di varianti genetiche su per esempio il rischio di sviluppare una determinata patologia oppure quanto queste varianti genetiche possono spiegare anche la variabilità di un carattere stesso con genomica io poi includo anche quella che è l'epigenomica quindi lo studio di modificazioni diciamo reversibili del DNA come ad esempio la mitilazione del DNA che possono avere un effetto sull'espressione genica e la metagenomica quindi lo studio diciamo delle comunità microbiche abbiamo poi la trascrittomica l'RNA è visto come una sorta di intermedio se vogliamo tra il DNA e la proteina quindi la trascrittomica va a studiare l'RNA sia da un punto di vista qualitativo quindi per esempio la presenza diciamo di varianti di splicing o anche quantitativo quindi l'espressione proprio del gene stessa abbiamo poi la proteomica la proteomica studia diciamo l'insieme dei peptidi che sono contenuti in una matrice biologica e generalmente viene diciamo questo studio viene portato avanti tramite metodiche di spettrometria di massa e infine la metabolomica che studia diciamo quelle che sono le piccole molecole come ad esempio carboidrati amminoacidi acidi grassi e diciamo prodotti di funzioni cellulari e tutti questi diversi layer se vogliamo strati omici contribuiscono a quello che è il fenotipo cioè quello che noi osserviamo e a loro volta sono influenzati dall'ambiente compreso anche quest'ultimo allora come abbiamo diciamo applicato queste tecnologie allo studio diciamo della salute della ghiandola mammaria allora innanzitutto ci siamo basati diciamo su uno studio portato avanti dall'istituto zooprofilattico delle venezie sulla prevalenza nella regione veneto di alcuni patogeni in particolare lo staphylococcus aureus lo streptococcus uberis streptococcus agalazie e prototeca sulla base di questo studio di prevalenza abbiamo identificato un allevamento nella provincia di Verona che presentava la presenza in contemporanea di due di questi patogeni ovvero lo streptococcus agalazie e prototeca si tratta di due patogeni molto diversi abbiamo da un lato un battere lo streptococcus agalazie dall'altro un'alga del genere prototeca abbiamo effettuato diciamo lo screening batteriologico tramite prelievo di latte tramite mungitura sterile su questi animali 188 allo scopo proprio di identificare tre gruppi sperimentali animali negativi quindi animali negativi all'esame batteriologico e con assenza di storia di mastite cioè questi animali non dovevano aver avuto nessun episodio di mastite diciamo durante la loro presenza in allevamento animali positivi a streptococcus agalazie e animali positivi al genere prototeca sono stati esclusi animali con segni clinici e sottoposti a trattamenti antibiotici il nostro scopo era quello di concentrarci proprio sulla mastite subclinica che si tratta diciamo essenzialmente della forma più subdula quella che è più difficile da rilevare in allevamento che è causa di contagio è molto diffuso all'interno dell'allevamento e di corali della produzione di latte proprio perché spesso viene diciamo c'è una certa difficoltà nella sua nel rilevarla questo campionamento al P0 è stato confermato poi al tempo 1 quindi dopo circa 15-20 giorni allo scopo proprio di definire quelle che erano le categorie diciamo i gruppi sperimentali e su questi animali sono state effettuate tutta una serie di analisi tra cui analisi di composizione standard analisi di caratteri di salute della ghiandola mammaria quindi SCC e DSCC analisi citofluorimetriche epigenomica metagenomica trascrittomica e proteomica allora partiamo con i caratteri diciamo di salute della ghiandola mammaria allora cosa abbiamo visto essenzialmente abbiamo visto che entrambi i patogeni hanno determinato un incremento della quantità della conta di cellule somatiche del 49% nel caso di prototeca e del 61% nel caso di streptococcus a galazie siamo andati anche a valutare il dato di SCC e in questo caso possiamo vedere come nel caso dell'infezione da prototeca ci sia un lieve incremento del 4% mentre nel caso appunto dell'infezione da streptococcus a galazie del 19% allora vi ricordo che il dato di SCC è un dato combinato e essenzialmente include al suo interno sia i linfociti che i neutrofili polimorfonucleati si tratta di popolazioni leucocitarie che hanno diciamo comunque delle funzioni molto diverse all'interno della ghiandola mammaria il suo utilizzo si basa sul presupposto essenzialmente che i linfociti rimangano abbastanza costanti nel caso dell'infezione mentre che l'incremento delle DSCC sia dovuto prevalentemente proprio a un incremento della percentuale di neutrofili che vengono richiamati nella ghiandola mammaria a seguito dell'infezione però quello che non sappiamo è se ci possa essere diciamo un effetto patogeno dipendente cioè ci possano essere dei patogeni per cui l'incremento invece dei neutrofili possa non essere così evidente come fare quindi siamo andati a utilizzare una metodica di analisi citoflorimetrica quindi abbiamo utilizzato questo strumento un citometro a flusso proprio allo scopo di differenziare le singole popolazioni leucocitarie in questa immagine vi ho riportato le abbondanze relative quindi le percentuali più grande è il cerchio più è abbondante la popolazione in funzione dei gruppi sperimentali quindi avete gli animali negativi gli animali positivi a prototeca e gli animali positivi a streptococcus a galazia dalla figura cosa si evince che nel caso di infezione da streptococcus a galazia abbiamo una prevalenza della percentuale di polimorfo nucleati neutrofili e di macrofagi mentre nel caso dell'infezione da prototeca abbiamo una prevalenza di popolazioni diciamo leucocitarie appartenenti ai linfociti di tipo T in particolare T helper e T killer andando a valutare quelle che sono le entità di queste differenze qui possiamo osservare come ad esempio nel caso dell'infezione da streptococcus a galazia si osservi un aumento del 51% di neutrofili e del 41% di macrofagi mentre nel caso dell'infezione da prototeca abbiamo un incremento del 46% della percentuale di linfociti T totali abbiamo anche creato un indice che ci potesse dare un'idea di quanto si potesse trattare di un'infezione diciamo più di tipo acuto quindi basata sulla risposta prevalentemente immediata da macrofagi che residenti nella ghiandola mammaria richiamano i polimorfo nucleati proprio per distruggere il patogeno oppure di più di tipo cronico adattativo basata per esempio sull'azione dei linfociti di tipo T che soprattutto nelle infezioni subcliniche e croniche possono dare luogo diciamo a infiltrati piuttosto densi e quindi abbiamo creato questo rapporto che somma la percentuale di neutrofili e la percentuale di macrofagi sul totale dei linfociti T e come si può vedere appunto dall'immagine mentre nel caso di infezione da streptococcus a galazie abbiamo un più 95% di questo rapporto nel caso dell'infezione da prototeca abbiamo un comportamento totalmente opposto abbiamo un meno 46% cosa ci dice questo essenzialmente che nel caso dell'infezione diciamo da streptococcus a galazie siamo in presenza di una mastite probabilmente di grado più severo caratterizzata da una maggior quantità di cellule somatiche come vi ho fatto anche vedere appunto prima negli histogrammi precedenti e un'infezione quindi probabilmente di tipo acuto proprio basata sulla risposta dei neutrofili polimorfonucleati nel caso invece dell'infezione da prototeca siamo in presenza di una risposta di tipo subclinico o cronico basata appunto sull'azione dei linfociti di tipo T prevalentemente questi risultati sono stati diciamo dato origine ma a una pubblicazione che è uscita diciamo in questi giorni sulla rivista JDS Communications che appunto ha riportato diciamo questi risultati che vi ho rassunto adesso appunto rapidamente non vi parlerò di epigenomica e metagenomica per due motivi uno non ce n'è diciamo il tempo diciamo da un punto di vista pratico ma anche perché per quanto riguarda queste tipologie di analisi non le abbiamo ancora concluse e quindi insomma vi parlerò essenzialmente di quello che abbiamo ottenuto in termini di trascrittomica e di proteomica analisi trascrittomica allora da dove siamo partiti siamo partiti da campioni di latte quindi abbiamo estratto l'RNA dalle cellule somatiche quindi essenzialmente dalle popolazioni leucocitarie perché rappresentano essenzialmente la quasi totalità delle cellule somatiche il resto sono diciamo cellule epiteliali di spaldamento abbiamo preparato le librerie abbiamo effettuato un sequenziamento e ai throughput e i dati grezzi di sequenziamento sono stati poi diciamo sottoposti ad un controllo qualità e allineati al genoma di riferimento lo scopo qual era? quello di identificare dei geni che fossero differenzialmente espressi ovvero che il loro livello di espressione era regolato dalla presenza diciamo dell'infezione quindi patogeno specifica appunto e poi una serie di analisi funzionali allo scopo di identificare quelli che sono dei pathway biologici che possono essere regolati in seguito all'infezione quindi da un lato singoli geni fortemente regolati dall'altro capire se questi geni in un qualche modo sono coordinati tra loro e se quindi un intero pathway poteva venire regolato a seguito appunto dell'infezione da mastite allora questo è un'analisi risultati di un'analisi per componenti principali si tratta di un'analisi di tipo esplorativo allo scopo di vedere se i nostri dati ci permettono di separare dei cluster sulla base del gruppo diciamo di appartenenza abbiamo utilizzato 15.000 geni espressi ottenuti dopo un controllo qualità e si può vedere gli animali negativi sono gli animali in rosa e gli animali positivi per la galazia sono in azzurro chiaro e in blu gli animali positivi per prototeca si può notare come diciamo prevalentemente si osservi una separazione tra animali positivi e animali negativi ma in un certo grado anche una separazione all'interno del gruppo degli animali positivi quindi i due microorganismi sembrano agire in maniera diversa da un punto di vista della regolazione dell'espressione genica della ghiandola mammaria abbiamo utilizzato diversi pacchetti diciamo di questo software R per identificare diciamo quanti erano questi geni differenzialmente espressi e chi erano in termini di numeri nel caso dell'infezione da prototeca parlo sempre di un confronto rispetto agli animali negativi avevamo 1950 geni sovraespressi e 2015 geni sottoespressi nel caso invece dell'infezione da galazie abbiamo un numero molto superiore di geni 2736 sovraespressi e sottoespressi 2437 in questa immagine ho cercato un po' di riassumere quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto dall'analisi dei pathway biologici cioè siamo andati a cercare di capire questi 2000 geni in che cosa sono coinvolti sono dei singoli geni o partecipano appunto a un pathway a magari più pathway biologici e cosa abbiamo visto essenzialmente che nell'infezione da prototeca che potete vedere appunto a sinistra abbiamo un'attivazione prevalente della risposta mediata dai linfociti di tipo T quindi in un qualche modo abbiamo confermato quello che avevamo ottenuto con i dati di citoflorimetria quindi una risposta che è mediata proprio dall'attivazione di questa popolazione leucocitaria nel caso dell'infezione da streptococcus di questa galazie abbiamo evidenziato tutta una serie di geni coinvolti nel metabolismo lipidico in particolare abbiamo evidenziato una repressione una diminuzione dell'attività di sintesi denovo di acidi grassi all'interno della ghiandola mammaria dei processi di desaturazione e abbiamo anche evidenziato tutta una serie di geni che sono coinvolti diciamo nel metabolismo ossidativo perché il metabolismo ossidativo perché essenzialmente i neutrofili per distruggere il patogeno producono quelle che sono diciamo specie metaboliti reattivi dell'ossigeno e questo diciamo l'attivazione di questi geni sembrerebbe essere coerente appunto anche in questo caso con i dati di citoflorimetria che attribuivano diciamo la risposta a questo patogeno prevalentemente appunto mediata dall'azione dei neutrofili polimorfonucleati un secondo livello di analisi è stato diciamo portato avanti proprio lo scopo di identificare quelli che abbiamo chiamato core genes cosa sono i core genes essenzialmente li abbiamo selezionati sulla base dei due criteri dovevano essere presenti in almeno il 90% di campioni all'interno di ciascun gruppo e con un livello di espressione superiore a 10 in logaritmo base 2 delle conte quindi essenzialmente riassumendo e semplificando dovevano essere presenti in maniera omogenea nel gruppo e molto espressi ne abbiamo identificati 51 negli animali sani 56 negli animali infetti da galazie e 56 negli animali infetti da prototeca in questo diagramma di Venn abbiamo evidenziato che 45 geni erano in comune tra i tre gruppi mentre 4 geni erano specifici per l'infezione da galazie 3 geni specifici per l'infezione da prototeca e 6 geni in comune tra i due diciamo i tipi di infezione questo cosa ci potrebbe dire che potenzialmente questi geni potrebbero essere dei marcatori proprio specifici per prototeca questi 4 potrebbero essere marcatori specifici proprio per l'infezione da galazie questi 6 potrebbero essere considerati dei miei marcatori generici di mastite non mi dilungo in che cosa sono coinvolti questi geni comunque essenzialmente sono mediatori di risposta pro-infiammatoria per esempio questo è un inibitore del pathway dell'NFKB quindi attiva dei pathway pro-infiammatori e gli altri comunque si tratta prevalentemente di geni coinvolti appunto nella risposta pro-infiammatoria della ghiandola mammaria l'ultimo layer che abbiamo preso diciamo in considerazione è stato quello della proteomica perché perché essenzialmente nel caso di infezione da mastite cosa succede le proteasi quindi questi enzimi che vanno a frammentare le proteine aumentano perché sono prodotti sia dai batteri sia sono prodotti anche proprio dalle cellule del sistema immunitario di conseguenza la nostra ipotesi sperimentale è che la frammentazione delle proteine del latte potesse avere una sorta di diciamo fingerprint cioè di immagine proprio patogeno specifica quindi siamo partiti anche qui dal latte abbiamo estratto i peptidi endogeni quelli con una massa con un peso molecolare inferiore a 10 kg d'alto e abbiamo applicato un'analisi in mal di toff allo scopo proprio di identificare un fingerprint peptidico una sorta di impronta digitale del nostro campione e quindi ipoteticamente del nostro patogeno nel caso di picchi poco presenti siamo andati diciamo abbiamo utilizzato uno strumento più sensibile che lavora in massa su massa ovvero l'orbitrap allo scopo proprio di arrivare anche all'identificazione di quelli che erano i picchi magari dimensioni meno dimensioni più piccola quindi siamo partiti più o meno da circa 700 picchi attraverso una serie di filtri che abbiamo diciamo applicato abbiamo identificato 62 picchi che potevano essere diciamo rilevanti perché magari erano rappresentati nella maggior parte dei campioni perché chiaramente perché come posso definire che è un picco rilevante se magari è presente solo in un campione o in due campioni quindi abbiamo cercato di prendere di selezionare quelli che sono i picchi presenti appunto che erano presenti all'interno del singolo gruppo sperimentale nella maggior parte dei campioni il 70% precisamente nell'immagine qui a sinistra avete i risultati anche qui della PCA quindi di un'analisi esplorativa e possiamo vedere come diciamo gli animali negativi clusterizzano piuttosto bene e siano piuttosto separati da quello che è il cluster invece degli animali positivi pre streptococcus a galazie abbiamo poi utilizzato un'analisi PLSDA che è un'analisi invece di tipo supervised allo scopo di identificare quali fossero i peptidi che spiegavano per lo più questa separazione cioè il VIP è praticamente quanto il mio modello statistico utilizza quel peptide per fare la predizione del gruppo di appartenenza ne abbiamo selezionati 35 e 21 siamo riusciti ad identificarne 12 erano frammenti di beta caseina 6 di alfa S1 2 frammenti di alfa S2 caseina ed un frammento di beta lattoglobulina questi invece sono i risultati che abbiamo ottenuto nel caso dei campioni diciamo positivi per prototeca anche in questo caso la PCA ha evidenziato una separazione piuttosto netta sulla base del profilo peptidico tra campioni negativi e campioni positivi a prototeca e l'analisi PLSDA ha permesso di identificare 34 peptidi di cui siamo riusciti appunto identificare quindi attribuire un nome e un cognome a 23 anche in questo caso prevalentemente si tratta di frammenti di beta caseina alfa S1 alfa S2 e beta lattoglobulina andando un po' più nel dettaglio abbiamo visto che di questi peptidi che diciamo erano essenzialmente considerati quelli che spiegavano di più appunto l'attribuzione e la separazione diciamo nei due cluster il 24% scusate 24 erano in comune quindi il 50% 11 erano specifici dell'infezione diciamo da streptococcus sagalazie e 11 erano specifici dell'infezione della prototeca voi vedete gli stessi nomi diciamo della proteina ma il frammento specifico in cui la proteina veniva tagliata era diverso quindi aveva un peso molecolare diverso quindi anche in questo caso 24 ipoteticamente potrebbero essere considerati dei marcatori diciamo generici di mastite anche perché in questo caso stiamo considerando due patogeni molto diversi come vi ho detto all'inizio 11 e 11 potrebbero essere invece dei marcatori proprio specifici dell'infezione diciamo da questi o da streptococcus sagalazie o da prototeca allora io insomma volevo un po' appunto adesso cercando di fare un po' un riassunto essenzialmente a che cosa ci ha servito questo studio a cosa ci sono serviti diciamo questi studi l'applicazione di queste tecnologie omiche a cui poi ovviamente sommeremo anche i risultati ottenuti con l'epigenomica e la metagenomica proprio lo scopo di integrare e di creare diciamo dei modelli di predizione in un qualche modo sicuramente hanno permesso di incrementare quelle che sono delle conoscenze relative a quella che è la risposta della ghiandola mammaria all'infezione quindi alla mastite soprattutto in questo caso parliamo di mastite subclinica questo da un punto di vista diciamo di ricerca di base da un punto di vista di ricerca di pratico applicativo se vogliamo sicuramente queste informazioni potrebbero essere utili per lo sviluppo di tool diagnostici per diciamo l'early detection in allevamento posso pensare ad esempio ad un kit elisa nel caso appunto dei peptidi delle proteine oppure dei panel di geni targeted come per esempio i core genes che abbiamo identificato a seguito dell'analisi di trascrittomica e diciamo tutte queste informazioni potrebbero anche contribuire a quello che è poi lo sviluppo anche di strumenti diciamo diagnostici che possono essere più effective perché sono patogeno specifici io con questa ho concludo e volevo ringraziare Alessandro e Alice che sono presenti che hanno dato un supporto enorme da un punto di vista pratico in laboratorio Vittoria che non è qui presente perché sta svolgendo una parte del suo dottorato all'INRA di Tolosa volevo ringraziare il professor Trevisi per gli spunti utili di discussione e la collaborazione e il professor Aimone per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo progetto e il professor Cecchinato perché comunque insomma mi ha dato la possibilità di coordinare questa piccola diciamo approfondimento sulle tecnologie omiche grazie dottoressa questo piccolo grande approfondimento perché ho dovuto un po' riassumere la sua relazione dava proprio questo stimolo a guardare veramente lontano perché verso il sogno diciamo del real time e del in line nella diagnostica delle mastidi soprattutto gli agenti aziologici non tanto della mastide questa è l'intervazione secondo me più utile perché soprattutto appunto considerando il fatto anche per esempio di quanto viene utilizzato anche si sta cominciando a utilizzare il dato di SCC va preso un attimo con cautela perché chiaramente ci potrebbero essere diciamo delle risposte patogeno specifiche noi abbiamo avuto per esempio campioni positivi anche con basse cellule quindi anche lo stesso dato diciamo di cellule somatiche chiaramente non è insomma l'aveva accenata anche il professor Raimone ieri questo aspetto è proprio così bello avere le cellule somatiche basse in senso assoluto bene e comunque di contro abbiamo anche appunto dei campioni che invece c'erano magari diciamo negativi con cellule alte per cui anche lì si pongono tutta una serie di domande perché chiaramente c'è una grande differenza tra infezione e di infiammazione due cose insomma che spesso vanno in parallelo ma ti diciamo che la mastite è un problema ben lungi da essere risolto anche dei fenotipi che vengono registrati insomma cioè le somatiche non tanto di massa quanto quelle individuali non è che si stiano abbassando semmai sono parecchi anni le masse è una cosa l'individuale è un'altra su 188 bovine ne abbiamo identificato 75 in questo allevamento molto bene apriamo la discussione credo che di temi ce ne siano ma veramente tanti discussione per chi non c'era ieri sera si può fare la domanda ma si può fare anche un piccolo intervento perché sono due cose differenti uno vuole capire di più o uno vuol dire anche una esprimere sinteticamente un'opinione parto io no prepotentemente parto io visto quel microfono ecco magari cosiddiamo il microfono al dottor Trevisi volevo volevo chiedere al dottor Froldi molto interessante ovviamente quella cosa per la ricaduta pratica iper pratica che può avere soprattutto nel nel prezzo del latte alla stalla ma anche nel prezzo diciamo dei formaggi che vengono fatti con questo tipo di latte perché c'è sempre il dilemma se poi il consumatore alla fine vede made in green sulla confezione si è disposto a pagare di più perché siamo lì tutti fermi lì GDO compresa a capire quando è in mano col carrello che fa prende quello o prende l'altro però a parte questo che non è esula dal contesto ha accennato che avete fatto o state per fare o farete una valutazione economica cioè un ordine di grandezza questo può rappresentare per gli anelli della filiera un costo perché si tratta di raccogliere collezionare dati inserirli per poi qualcuno li guarderà li elaborerà questa fase diciamo di collezione di dati può essere quanto onerosa per esempio l'allevatore che poi rappresenta la produzione primaria quindi se non lo raccoglie lui questo sistema non funziona perché sai bisogna sempre nasce prima luogo la gallina cioè l'allevatore comincia a raccogliere quei dati che potrebbero essere reclutabili per generare claim però per generare i claim ci devono essere dei dati perché il claim se non è remunerato da un consumatore diventa un banale collezionismo di informazioni che non serve a nulla magari al legislatore allora diciamo che quando abbiamo iniziato questo progetto la parte più complessa e su cui punto ci siamo imbattuti è stata proprio la raccolta dei dati perché bisogna cioè come noi sappiamo l'allevatore fa il suo lavoro ma molto spesso soprattutto in aziende meno organizzate non c'è quella cultura di tenere il dato di mantenere il dato magari il fatto di essere legato ad un'associazione agricoltori fa sì che parte dei dati di stalla vengono magari mantenuti raccolti da un'associazione agricoltori quindi quando si entra in allevamento e semplicemente si chiede all'allevatore puoi mostrarmi le fatture d'acquisto di un prodotto o ad esempio i consumi energetici dell'allevamento la risposta è le devo procurare non so se le ho non so se le trovo come faccio a fornirti il dato e questo è un aspetto che purtroppo ancora oggi difficilmente si riesce a superare questo sia in aziende meno organizzate che in aziende più organizzate cioè il reperimento del dato di qualità è un aspetto che poi va a condizionare il risultato di impatto ambientale di quella realtà diciamo che noi siamo stati in 68 stalle e le abbiamo stressati tanto gli allevatori perché abbiamo cercato di coinvolgere associazioni abbiamo commercialisti per reperire più dati possibili ora rispondendo alla domanda il software che noi abbiamo realizzato prevede anche una parte preliminare cioè fornisce un documento a tutti gli attori della filiera attore per attore dove si riportano quelli che sono i sottodocumenti utili al riperimento dei dati per la compilazione del questionario dal piano di utilizzazione agronomica degli effluenti a registri di stalla a registri degli animali dei trattamenti degli animali di acquisto vendita di produzione del latte e così via quindi forniamo tutto quello che è una linea guida per andare a compilare questo questionario il problema però qual è? il problema è il controllo del dato stesso perché anche l'allevatore potrebbe condizionare la compilazione del questionario stesso inserendo un dato errato o comunque un dato che si avvicina alla realtà ma che magari non rappresenta la realtà perché magari quel dato non ce l'ha sotto mano e dice ipotizzo la resa della mia cultura ipotizzo ad esempio l'accessione del mio effluente quello che noi vogliamo fare invece è dare all'allevatore uno strumento che aiuti alla compilazione del questionario però c'è l'aspetto economico l'aspetto economico è un qualcosa che il nostro dipartimento in ambito di altri progetti anche di dottorato di ricerca ha portato avanti ad esempio il professor Masoero con il professor Gallo hanno fatto dei piani foraggeri dei costi della produzione di foraggio e pensiamo di iniziare ad inglobare anche l'aspetto quindi economico quindi il lavoro già fatto in altri progetti nel nostro tool o e oltre a questi anche gli aspetti che avete trattato ieri ma in parte anche oggi di benessere animale per andare a fornire all'allevatore non soltanto un quadro ambientale della sua realtà ma anche un quadro economico quindi dire bene faccio questa utilizzo questo macchinario per la produzione di questa cultura con questi fitosanitari prodotti fertilizzanti su questo reale con l'impiego di quest'acqua bene quant'è il mio costo di produzione del mio foraggio in relazione al costo di produzione del mio latte tutti questi sono aspetti che noi purtroppo per motivi di tempo del live che tra l'altro termine tra un mese non siamo ancora riusciti ad oggi a metciare a mettere insieme ma li abbiamo già a livello di dipartimento quindi il valore aggiunto che possiamo dare all'allevatore e al settore è considerare anche questi aspetti l'altro lato della medaglia però è che quando vai a dire all'allevatore quant'è il costo della sua produzione e quant'è la rinomodazione del suo latte gli vai a ricordare quanto gli viene pagato il latte qui entriamo in un contesto molto complesso perché possiamo scoprire che magari i costi di produzione soprano i ricavi e quindi qualcuno deve poter dire all'allevatore come fare per intervenire per ridurre i suoi costi però qualche altro attore dovrebbe intervenire ulteriormente per andare a giustificare l'impegno l'impegno maggiore dell'allevatore è qui che entra in gioco la filiera quindi uno strumento di questo tipo deve responsabilizzare tutti perché se io chiedo all'allevatore di ridurre il suo impatto che è già di suo e basso qualcuno però deve finanziare la riduzione dell'impatto che non vuol dire guadagnare di più vuol dire finanziare forme di miglioramento ok esistono forme di finanziamento a livello europeo piani di sviluppo rurale abbiamo visto l'agricoltura 4.0 però l'allevatore agisce sempre cercando di incrementare il proprio reddito quello che manca che a livello nazionale purtroppo abbiamo gli strumenti ma manca la comunicazione cioè l'educazione dell'allevatore che ok lo fa anche indirettamente da un punto di vista ambientale perché la raccolta di dati la copertura delle vasche di stoccaggio ad esempio tecniche di agricoltura conservativa o comunque minima lavorazione hanno dei vantaggi sull'ambiente che però talvolta vengono percepiti come vantaggi indiretti non diretti cioè non c'è l'intento dell'allevatore di migliorare le prestazioni ambientali c'è l'intento di migliorare il proprio reddito agevolando il proprio lavoro questo tool vedrà uno sviluppo futuro anche da questo lato quindi da un punto di vista economico quindi dire all'allevatore sì sta impattando meno però al tempo stesso fare anche un conto economico della sua realtà produttiva dicendo che impatti meno ma è anche questo vantaggio da un punto di vista economico ovviamente fondamentali però sono i dati dati di qualità e come abbiamo strutturato lo strumento è creato per cercare di controllare anche l'inserimento dei dati per non fornire delle informazioni che poi sono furbianti alla filiera stessa grazie grazie Erminio Trevisi gli stimoli sono tantissimi io faccio qualche domanda così puntuale per allora una domanda questo forse più un commento riguardando i dati perché ne abbiamo discusso tante volte con Paolo però ad esempio su alcuni parametri dovremmo cominciare a pensare di ragionare non sul patologico ma su quello che sono gli adattamenti fisiologici che gli animali hanno adottato anche magari per effetto della selezione utilizzata perché quando parliamo di gamma GT e questo è il commento noi non stiamo parlando di animali che stanno producendo una gamma GT che indica un danno epatico e stiamo già ragionando sul fatto che possa essere invece un indicatore della massa epatica in realtà è da tempo che ragionavamo su questo e quindi queste variazioni potrebbero anche darci delle indicazioni su quella che è l'adattamento o addirittura la differenza che potremmo avere tra gli animali sulla massa epatica per cui quella gamma GT che noi troviamo di più e di meno potrebbe essere un duplice effetto una maggiore produzione ammettiamo ma semplicemente forse una maggiore produzione perché c'è una maggiore massa allora a quel punto dobbiamo anche rivedere un po' tutti i concetti e anche capire come poi selezionare questi animali ad esempio dati interessanti su questo versante sono già nati nella comparazione i dati in parte sono già pubblicati con Alessio e il gruppo di Padova proprio in relazione alle variazioni di gamma GT e anche di altri enzimi e il fatto che abbiamo stimato con le ecografie la dimensione la massa del fegato quindi sempre in animali sani ma che hanno funzionalità poi diverse quindi anche questo sono dei dati ovviamente li mettiamo lì ma che diventeranno sicuramente utili io ho un dubbio che mi faccio la domanda a Stefano invece sul discorso di come utilizzare l'approccio machine learning secondo me è uno step che oggi ci dà la tecnologia per poter immaginare quali sono i meccanismi di funzionamento quindi io continuo a restare attaccato al fatto che noi dobbiamo comprendere i processi e che questo è uno strumento aggiuntivo che con i grandi numeri ci dà nuove informazioni ma perché il nostro obiettivo è quello della system biology noi non possiamo pensare di andare avanti di avere il risultato finale e non capire come mai c'è quel risultato dal punto di vista pratico va benissimo ma noi non possiamo accontentarci perché potrebbe essere che è una correlazione con i dati che abbiamo trovato anche in fittizia anche se c'ho migliaia o milioni di dati è chiaro che se io c'ho centomila variabili però c'ho qualche milione di dati la possibilità di sbagliare diventa piccolissima però devo capire qual è il meccanismo e secondo me l'esempio bello che abbiamo è che le mastiti se cominciamo ad affrontarle da vari punti di vista cominciamo forse a capire che possiamo identificare il patogeno sulla base degli effetti che fa però ecco dobbiamo collegare tutti i passaggi e qui la domanda che ci facevo a Sara è ma forse dovremmo stabilire anche un livello di cellule entro le quali noi possiamo misurare quegli effetti perché un conto è vedere l'effetto di una mastite da Aureus piuttosto che da Galazie piuttosto che da Prototeca quando c'ho 500.000 400.000 un milione di cellule in particolare mi riferisco ai dati della proteomica un conto è quando c'ho 50-100.000 cellule perché il patogeno ce l'ho ma non so non penso che mi faccia gli stessi effetti quindi probabilmente dovremmo cominciare a pensare anche al fatto che quando noi andiamo a analizzare il latte potremo avere diverse situazioni ma è una riflessione che facevo ovviamente questo apre una serie di scenari commento brevissimo invece su un dato che mi ha impressionato che è dove va l'India in questo momento perché è l'errore che ha fatto l'Europa e l'Italia in particolare poi gli altri paesi non li conosco bene in passato con la frammentazione territoriale che ha portato alla fame delle famiglie quindi un messaggio potrebbe essere attenzione India se vai avanti così tu fra 20 anni sei sull'astrico non hai risolto il problema hai creato povertà però queste analisi sono estremamente interessanti e stimolanti poi non so che tipo di interazione possiamo avere con questi paesi ma magari anche all'Africa potremmo dire attenzione non usate questo approccio abbiamo già sbagliato in Europa adesso stanno sbagliando in India non sbagliate anche voi nei prossimi 20 anni l'ultimo commento invece lo faccio come allevatore visto che sapete che devo gestire perché sono un po' preoccupato dall'ulteriore carico che immagina Federico di darci allora io tutti i giorni devo perdere perdere del tempo perché devo restituire dei dati a qualche agenzia che mi chiede dei dati e dalla quale non ho un ritorno allora gli allevatori sono disponibili a fare un investimento ulteriore se ovviamente hanno un ritorno questo ritorno economico però non dobbiamo prospettagli come un qualche cosa che avverrà ma deve essere un qualche cosa di concreto quindi se gli chiediamo uno sforzo non gli devo dire soltanto guarda che ti pagherà il PSR l'intervento che io ti chiedo di fare no tu avrai un vantaggio e qui noi non ci siamo i nostri sistemi si sostengono come abbiamo detto prima le imprese massimizzano l'efficienza ma la prima cosa è l'efficienza economica allora qui noi dobbiamo coniugare un vantaggio di tipo ambientale che è di tutti ma la ricaduta deve essere per l'imprenditore che fa quel vantaggio non per arricchirsi ma per mi chiedi di lavorare di più devo almeno ripagare il lavoro e non solo all'imprenditore ma a tutta la filiera che c'è all'interno dell'azienda allora se noi costruiamo il sistema in questo modo penso che ci sarà una prospettiva altrimenti noi allarghiamo la forbice ritorniamo al discorso che facevamo ieri quindi dobbiamo trovare in modo che il consorzio diventi virtuoso in questo ambito facendo vedere la ricaduta differenziando ad esempio avete fatto le tre categorie insomma ogni categoria ha il suo la C nulla la B qualcosa la A deve avere di più altrimenti non si spiega perché il B dovrebbe andare verso l'A torno a ripetere il motore deve essere non soltanto pubblico cioè deve essere se crediamo che effettivamente il motore è l'opinione pubblica e l'opinione pubblica deve sapere che quel prodotto deve costare un po' di più e un po' di più ovviamente non significa solo per la popolazione ricca ma un po' di più perché invece di acquistare un computer in più acquisteremo anche questi che sono dei beni ma sono dei beni primari quindi io penso che questa riflessione dobbiamo farlo beh ieri è stato accennato stamattina la tesserina forse la tesserina del supermercato cioè alla fine i dati il supermercato te li paga perché tu gli dai la possibilità di raccoglierli loro ti mettono nella raccolta punti della pentola piuttosto che della coperta quindi i dati alle aziende agricole vanno retribuiti o direttamente secondo me oppure indirettamente perché il latte esce da da essere una commodity a diventare una non commodity ma è diverso cambia il metodo ma ci deve essere una retribuzione secondo me però Alessandro il dato ha un valore e chi ce l'ha è un valore che è in mano la distribuzione non lo dà indietro all'allevatore o all'agricoltore perché non vuole ridistribuire ma neanche al consumatore perché non vuole ridistribuire il valore che è una cosa magari errada ma è umana eh certo ti voglio chiedere una cosa mi accodo alle hai parlato è interessante il dato che chiaramente sì era prevedibile che dall'ascensore sociale comporta un aumento del consumo delle proteine di origine animali sia per oggettivo o bisogno ma anche come stato simbolo no ti fa il macchinone quando ti affranchi poi quando sei ricco ricco vai in bicicletta questo fa parte dell'evoluzione delle società della riflessione che fai anche dal ruolo che hai diciamo nel contesto no cioè come la mettiamo però sempre con questo famoso consumatore barro vinone pubblica barra gente cioè il pollo è interessante che converte meglio di ogni altro animale no la trasformazione della proteina vegetale in proteina animale ma compete direttamente con l'uomo cioè come facciamo a sfamare tutti facendogli mangiare il pollo il ruminante compete per un pezzettino di una razione al 5 al 6 7 cioè la farina di mais il resto non compete con l'uomo e tu sai meglio di me che produrre un chilo di carne di bovino costa molto di più che produrre un chilo di carne di pollo certo oh scusate sì 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 parlo con referenza verso Alessandro sottovoce questi ragazzi no ti dicevo Alessandro che produrre un chilo di carne di bovino costa ben di più che produrre un chilo di carne di avicolo per chi ha bisogno di proteine animali per affrancarsi dalla ciotola di riso insomma è una cosa ideale o comunque per uno status symbol è più facile arrivare al chilo di pollo di carne al pollo piuttosto che alla bistecca e quindi il mercato ti dà esattamente quello di cui ha bisogno perché il mercato si adatta a quello che ha bisogno ti fa credere che giustamente che mangiare proteine animali è utile per motivi tanti motivi ma che è anche uno status symbol per cui ti danno quello quello che gli costa meno ed è il mercato che decide cosa si fa e cosa non si fa il mercato come dicevo tra una slide e l'altro ha una visione al domani o al limite al dopodomani cioè non ha una visione a lungo tempo quindi il momento in cui entreremo in competizione perché si entrerà in competizione è un'altra cosa che accennavo in un qualche slide tra l'alimentazione umana e l'alimentazione animale allora lì avremo un altro cortocircuito un altro dei tanti cortocircuiti che non siamo stati in grado non dico di prevedere perché non so mica prima il primo io che le dico se dice queste cose c'è tanta gente più in gamba di me che l'ha già detta ma di mettere in pratica un'operazione di salvaguardia su quello che si prevede che non è un obiettivo del mercato è purtroppo una delle diciamo così dei lati negativi di questo capitalismo e se non voglio per carità entrare in situazioni sociali o politiche però di fatto è questo di fatto è questo ma il riscaldamento globale il cambiamento climatico è l'esempio abbiamo anche agli occhi altri Paolo avete alzato contemporaneamente quindi ecco non so come la prenderà però il professore ecco intanto avete richiamato la mia attenzione con quest'ultimo intervento sul fatto che appunto contrariamente ad altre considerazioni la carne di pollo sia preferibile o sia preferita dal consumatore rispetto alla carne bovina che non compete però mi pare che quanto ha osservato Andrea Rosati sia molto pertinente cioè noi ci troviamo in una situazione nella quale gli alimenti che potrebbero essere destinati all'uomo in realtà sono a prezzi tali per cui la produzione del pollo è effettivamente diciamo a costi più accettabili da parte del consumatore e quello del costo dell'affordability è uno degli aspetti che a volte non viene del tutto considerato ma è estremamente importante che però ecco dice anche il fatto che è vero i ruminanti sono da molti punti di vista preferibili perché non competono con l'uomo ma hanno due grossi difetti da un lato quello di produrre il metano che ha ben sappiamo 28 volte un valore di gas serra superiore rispetto alla CO2 ma soprattutto sono spesso allevati e giustamente stamattina lo sottolineava Andrea in condizioni tali per cui la loro efficienza produttiva è estremamente ridotta e qui si inserisce un po' il quesito che io volevo appunto fare ad Andrea da un lato perché lui ha detto giustamente ma la cosa mi preoccupa un po' che non è pensabile di poter produrre alimenti di origine animale secondo quanto richiede il mondo e avere una riduzione dell'impatto ambientale se ho capito bene ecco questo però mi sollecita a dire che effettivamente l'obiettivo che noi ci dovremmo porre per il 2050 è quello di una riduzione dell'effetto in particolare dell'effetto serra come questo può essere realizzabile beh indubbiamente mi ero preso un paio di appunti qui è difficile dire perché appunto nei paesi in via di sviluppo il l'introduzione di tecniche sufficientemente garantiste nel conseguimento della maggiore produttività perché ricordiamoci che uno dei concetti fondamentali è avere animali più produttivi e non animali semplicemente perché sono disponibili in numero quantità è appunto abbiamo detto estremamente difficile una cosa di questo tipo anche per ragioni di mentalità allora a questo punto io faccio un ulteriore passo avanti e dico è possibile che non il consumatore medio diciamo la popolazione ma gli organismi della comunità europea puntino a ridurre le produzioni comprese quelle animali non soltanto agricole in generale come stanno facendo con la F2F farm to fork ben sapendo che la efficienza della produzione in Europa è decisamente superiore a quella che invece dovremmo conseguiremmo trasferendo produzioni di tipo agricolo e in particolare zootecnico in paesi meno sviluppati perché ricordiamoci che noi se riduciamo con il 25% dell'agricoltura biologica con la riduzione dei concimi con la riduzione degli agrofarmaci con la riduzione degli antibiotici la produzione in Europa già adesso siamo deficitari dunque dovremo acquistare maggiori quantità di questi alimenti in paesi dove l'efficienza produttiva è inferiore allora ecco io qui rimango un po' ho detto in altre occasioni frastornato perché non si capisce con quale criterio vengono affrontati i problemi e se si tratti semplicemente di mancate conoscenze ma non è vero perché ci sono di mancata consapevolezza perché non ci si preoccupa di acquisire queste conoscenze oppure di un semplice approccio di tipo di accontentare diciamo così tutti per non avere conseguenze sul piano anche semplicemente di tipo politico e quant'altro eccetera ecco non so se ho reso l'idea ma ecco la mia preoccupazione è proprio questa di una incapacità da parte dei decisori politici di rendersi consapevoli della realtà per fare poi delle scelte che siano effettivamente basate sulla scienza e non su sensazioni o come diceva il dottor Bifani sulle opinioni perché non si utilizzano correttamente i dati se posso rispondere professore come sempre stimola un'altra chiacchierata altrettanto lunga ma penso che avremo una sopravvivenza scarsa in questa sede però alcune cose te dicevi non so se si basano sulla conoscenza assolutamente no la conoscenza come detto te c'è quando fu eletto Donald Trump negli Stati Uniti ormai quasi sei anni fa o sei anni più o meno erano usciti 14.000 articoli scientifici in cui si affermava che c'è in atto un cambiamento climatico a livelli superiori o inferiori ma tutti e 14.000 ho preso queste informazioni da altri articoli ovviamente in cui si affermava che c'è un cambiamento climatico era in atto la maggior parte della popolazione americana più del 50% aveva creduto a Trump che diceva che non c'è un cambiamento climatico quindi fare torniamo al discorso che facciamo ieri fare divulgazione scientifica tra i ricercatori è utilissimo perché si impara l'un l'altro e non lo sto a dire a voi che lo fate quotidianamente quindi non devo convincere nessuno ma passarla al grande pubblico è lo scoglio di cui parlavamo ieri già approfonditamente non passarla al grande pubblico fa sì che questa informazione di cui tu dicevi è assolutamente inutile per il politico il politico purtroppo anche se non dovrebbe essere così vive per la prossima elezione quindi deve accontentare il pubblico che lo voterà e se il pubblico lo voterà non crede che ci sia un cambiamento climatico lui dice che non c'è un cambiamento climatico oppure lui li convince che non c'è un cambiamento climatico perché così può la lobby che in qualche modo lo sostiene può può continuare a fare business detto questo cadono le braccia perché effettivamente io credo di aver dipinto un quadro che immagino molti conoscono non sto dicendo nulla di nuovo ed è lì il pessimismo nell'ultima slide che non si vede una via d'uscita e questa è la prima parte del pessimismo quindi non ci sarà almeno a mio modo di vedere l'intenzione di modificare la situazione e poi c'è la seconda parte che è quella ma riusciamo a farla questo cambiamento anche ammesso che avremo i politici a favore i sostegni pubblici per la ricerca necessaria all'industria dalla nostra parte riusciremo a farla perché se noi dobbiamo crescere dal 60 al 90% le produzioni animali da qui a 30 anni con le conoscenze che abbiamo oggi che magari possiamo pensare miglioreremo le tecnologie passo passo come viene fatto fino ad oggi non ce la faremo comunque sia non ce la faremo e lì c'è bisogno di un salto quantico di qualcosa di veramente che oggi non è alla vista almeno non alla mia vista non so il metro di crisp quello che sarà per poter in qualche modo fare questo salto quantico e vado alla terza sede di pessimismo se questa cosa succede politici sono d'accordo si farà questo salto quantico lo faremo probabilmente nei paesi sviluppati prima credo che con Erminio parlavamo di quanto potrebbe essere il miglioramento se diminuiamo di una percentuale l'emissione di gas terra dei nostri bovini mi sono fatto tre conti così al volo se noi diminuiamo il 2% passando dal 14,5 al 12,5 dal 16 al 14 non lo so il 2% a livello globale di emissione di gas terra miglioreremo dello 0,2% cioè un punto su 500 useless come si direbbe in inglese cioè non serve a niente quindi i gradi di pessimismo sono tre e ho difficoltà a capire già come si risolve il primo immaginare pure gli altri due Stefano sì grazie io volevo il mio è un commento a quello che diceva Erminio e poi una richiesta di commento da parte di Andrea su un argomento che vi dirò subito allora non è facile rispondere alla tua domanda perché ti ripeto qua si scontrano non si scontrano si incontrano perché più è meglio si incontrano due approcci che però forse appunto si stanno dividendo un po' troppo di nuovo stiamo diventando un po' troppo tifosi di un metodo o di quell'altro perché in realtà per esempio la domanda che tu hai fatto a Paolo cioè il fatto ma non sarà che questo livello in realtà si collega un po' cioè può trovare una risposta anche da molti altri dati che non avete considerato o che non sono stati considerati in quell'esempio allora ecco è questo che io vedo nel machine learning cioè la capacità concordo con te che si rischia magari di guardare solamente il risultato però il machine learning ha un grosso vantaggio che ti può dare la possibilità di vedere come un risultato specifico che tu hai trovato si collega ad altri o come con esso correlato quindi forse dobbiamo rivalutare anche un po' meglio insomma l'approccio o il vantaggio che può dare l'utilizzo del machine learning perché comunque si può fare parzialmente dell'inferenza anche dal machine learning mentre invece no siccome Andrea insomma da quando io lo conosco che sono non sono non dico tantissimi anni perché sono poi dopo sembriamo un paio di mesi però lui ha sempre avuto soprattutto a livello europeo forse di tutti noi che ci occupiamo del mondo animale molti più contatti e quindi volevo sentire se lui ha un parere ecco di quello che lui ha appena detto riguarda l'esempio degli Stati Uniti non lo so per esempio l'Europa dal punto di vista più tra virgolette politico perché tu hai visto hai fatto vedere un'immagine un po' paradossale nel senso che hai fatto vedere Bruxelles però era tutta vuota l'immagine che hai fatto e allora io ci ho pensato ho detto ma il politico secondo te il politico europeo come si pone in questo momento perché io ho un po' il sentore che si stia muovendo un po' come si muove il politico che hai descritto te e allora poi sai ogni singolo Stato come ben sappiamo insomma enfatizza quelli che possono essere i difetti no? però volevo capire da te perché per esempio la cosa l'altra cosa ti volevo dire nel commento tu hai detto che ci sono 200 registrati per il il dog breeding etico che è bellissimo che ci siano però indica anche di come in effetti l'attenzione si stia spostando molto assolutamente quindi non so qual è la tua sensazione diciamo c'è un po' di speranza o diventiamo davvero come gli americani dove il cambiamento climatico non esiste non lo so beh io degli americani ho detto quello che era 5-6 anni fa adesso forse spero che anche loro abbiano capito visto quello che sta succedendo un po' dappertutto che magari c'è più cambiamento climatico quello dell'ethical dog breeding è proprio è chiaro è un esempio chiarissimo quando abbiamo fatto dei webinar ne facciamo uno al mese più specifici 150 100 forse 200 persone quando abbiamo fatto uno sulla carne artificiale abbiamo fatto uno sugli insetti e questo 4-500 persone e peschiamo nel nostro ambito non è che andiamo a pescare fuori quindi è chiaro che l'interesse si sta spostando da altre parti perché si sposta su altri settori boh non lo so però fa pensare questa attenzione maggiore che c'è ai pet non lo sto criticando non lo sto elogiando però di fatto è l'osservazione che lo vediamo anche dentro le nostre università nessuno ha mai messo in discussione quanto è il gas serra prodotto da un pet ci sono decine di milioni di cani e decine di milioni di gatti in Italia sicuramente non come un ruminante però credo che il loro impatto ce l'abbiano ma sarebbe simpatico vedere se c'è qualche numero su questa cosa tornando al settore politico diciamo che ho più contatti con Bruxelles per motivi professionali non è pessima la situazione ci sono delle persone interessanti cioè che conoscono l'ambiente ieri ne chiacchieravamo alcuni di questi insomma lo dico tanto non è un problema Paolo De Castro per esempio è una di quelle persone che quando ci parli capisce è molto anzi è lui che ci spiega le cose più delle volte quindi è un gamba e come lui ce ne sono anche altri in altri paesi diciamo che spesso l'Unione Europea è stata più avanti dei parlamenti nazionali non sono tutti così la bontà di essere così per un Parlamento Europeo è che rispondi meno rispetto a quello che fai rispetto ai tuoi elettori ma più alla tua coscienza perché sei più staccato dall'elettorato quindi forse questo in qualche modo aiuta però non è proprio così ottimistica perché almeno recentemente non voglio fare un discorso politico ti sta puntando molto io difendo il mio paese da quello che può fare Bruxelles l'abbiamo visto anche su altre cose quindi non sono particolarmente ottimista da questo punto di vista e non solo noi tentiamo in piccolissima parte a incontrare qualche parlamentare europeo o altre persone per l'AIP ci vanno ogni due o tre mesi a parlare con qualche parlamentare ma le possibilità di poterlo fare anche dal punto di vista economico sono basse rispetto a quello che fanno vegani vegetariani animalisti e così via loro hanno tanti più soldi Greenpeace WWF hanno tanti più soldi e riescono ad entrare a star lì tutti i giorni a fare lobby un esempio un esempio personale mi posso permettere di dirlo sarò brevissimo qualche anno fa c'è stata una discussione col commissario europeo hanno chiamato una ventina di persone da tutta Europa per poter discutere un argomento una nuova legge e dell'Italia ero presente io e come si chiama quello che ha fondato Slow Food Carlo Petrini Carlo Petrini bravissimo abbiamo iniziato a discutere e alla fine Carlo Petrini ha iniziato a dirlo fuori che la vacca al pascolo inquinava di meno e io ho detto esattamente il contrario di quello che stai dicendo la discussione lui diceva no perché è un esempio di come può essere legata all'ambiente il pascolo il prato tutte queste cose così e io ho detto sì se la vacca è un animale da compagnia allora ti do ragione ma siccome sta lì per produrre latte tu devi vedere quanto inquina per litro di lato o per chilo di carne prodotta altrimenti non ha senso di che cosa stiamo parlando poi la discussione si è un po' animata dall'inglese che parlavamo siamo passati in italiano tutti a usare le cuffie chissà che si dicono questi due e è finita lì però è finita lì fino a un certo punto perché mi ricordo bene un esempio un'esperienza personale questa era la mattina durante la pausa pranzo lui e il commissario sono andati a pranzo da un'altra parte loro due insieme e tutto il resto da altre 19 persone me compreso stavamo da un'altra parte a pranzo quindi chi ha le intrature con questa gente purtroppo non siamo noi per quanto sforzi facciamo c'è anche l'EF ha ben molta sforza EAP cioè noi come EAP però sono limiti diciamo siamo molto limitati da minore disponibilità ok Paolo Aimone così concludiamo fai anche una conclusione Paolo di questa intanto intanto ringrazio tutti i relatori e anche per questa bella bella discussione finale sia ieri che oggi io vedo commento due cose abbiamo avuto secondo me due esempi quasi che sembrano opposti ma che secondo me in un futuro andranno a convergenza e si si integreranno cioè da una parte abbiamo avuto un esempio di Stefano Biffani che ha utilizzato una serie di dati che se vuoi forse sembrano centrare poco con l'onset della mastite per fare una previsione un'inferenza dopo mi spieghi meglio questa differenza e d'altra parte abbiamo avuto Sara Pegolo che invece è andato molto a fondo e andrà sempre più a fondo con la system biology ma in realtà questi sono due aspetti che secondo me dovranno essere valutati insieme semplicemente perché effetti ambientali hanno effetti sull'espressione genica e Sara ha menzionato l'epigenetica che essenzialmente è un'antenna dell'organismo e delle popolazioni per sentire quello che è l'ambiente e poi adattarsi per cui i giorni in lattazione tutti i parametri che vengono utilizzati che hai utilizzato per fare questa prediction in realtà sapremo quando riusciremo a unire bene e avere un quadro più completo vuol dire anche avere molti dati sulla parte biologica riusciremo a unire le due cose per cui da questo punto di vista io sono molto positivo da questo punto capiremo sempre di più la biologia grazie ai big data la produzione di dati ovviamente c'è un costo e grazie ai nuovi metodi di analisi che magari tirano fuori delle cose che non ci aspettiamo anche mi ricordo a proposito di cose che non sono attese un esempio è quello nella parte genetica della mutazione slick c'è una singola mutazione in un gene che è un recettore per la prolattina che dà un effetto di resistenza al caldo una cosa che non avremmo mai immaginato se non l'avessimo vista e poi trovata e provata quindi io in realtà avrei una domanda una domanda per Stefano finale poi magari le conclusioni generali Alessandro lascio tirare a te questi sistemi di machine learning che tu hai fatto vedere che hanno delle performance diverse possono essere in qualche modo integrati perché ho visto per esempio tu hai fatto un esempio c'è un metodo che dà più falsi positivi un altro metodo dà più falsi negativi ma mettendo tutto insieme proprio in questo esempio che tu hai fatto e io inserirei anche un altro parametro che è quella che è la parentela tra gli animali si riuscirebbe a in qualche modo arrivare a una predizione che sia veramente utile per cui non ha il 75% di attendibilità cioè il 75% di veri positivi e veri negativi ma arriva veramente permette una prevenzione della mastite sulla base dei dati precedenti allora io credo che un'accuratezza del 100% sia sia impossibile credo però ad esempio ecco una cosa che noi non abbiamo provato e probabilmente potrebbe essere interessante anche questa provare e seppure e poi dopo esistano dei limiti biologici è quello di integrare ad esempio il modello che noi abbiamo utilizzato anche tutta la parte genetica ma non tanto poi per stimare dei breeding value di nuovo ma proprio per fare solamente della predizione probabilmente è probabile che quello ci aiuti sebbene ci possono essere altre problematiche ci possono essere altre problematiche che possono nascere dall'introduzione dei genotipi che infatti è un aspetto che vogliamo che vogliamo approfondire nel senso che il fatto di introdurre all'interno di un sistema come quello del machine learning dei genotipi ad esempio ti introduce un bias dentro il sistema se tu non fai un campionamento adeguato nel senso che il fatto di introdurre dei genotipi introduce delle variabili che collegano tra di loro le informazioni che sono dentro e quindi paradossalmente questo ti crea quello che in gergo si chiama una sovra predizione cioè un cosiddetto overfitting cioè nel senso è come se io mi faccio fare appunto un vestito su misura ovviamente mi va benissimo a me però se lo metti te insomma sembra quello di un bambino di due anni insomma e quindi diciamo che bisogna fare attenzione anche in questo caso nei modelli predittivi a come si utilizzano i dati per sviluppare il modello predittivo e quindi ad esempio una cosa sulla quale vogliamo lavorare è proprio questa e cioè capire come ad esempio la parentela perché io posso utilizzare dei dati raccolte in stalle diverse per fare predizione però potrei usare una stalla come esterna come testing e tutte le altre le uso per fare per sviluppare il mio modello però ad esempio nel bovino da latte ad esempio nella frisona la connessione tra le aziende esiste ed è molto alta a livello perché è di tipo genetico per esempio proprio perché noi abbiamo usato tori diversi e questo paradossalmente diciamo che rende il modello meno efficiente rende il modello meno efficiente se io non tengo conto del fatto che esiste un legame e quindi diciamo che ottengo dei risultati molto migliori rispetto a quelli che in realtà ci sono dovrebbero essere quindi ad esempio una cosa che noi vogliamo affrontare è fare una cross validation quindi dividere i campioni da usare come validazione e come testing anche sulla base del rapporto di parentela tra gli animali e quindi minimizzare al massimo il rapporto di parentela tra gli animali in modo tale che in un modello predittivo che in un modello predittivo dovrebbe funzionare ancora meglio proprio perché io vado ad esplorare tutto l'insieme dei dati e non solo quelli che sono tra di loro legati che è quello che è un po' ripeto io non so in questo caso non faccio stime di valori genetici ma è proprio una predizione del rischio e se non tengo conto di questo aspetto di quanto i dati che io utilizzo per sviluppare il mio modello sono legati tra di loro rischio di avere una sovrastima una sovrastima e quindi che il modello e quando poi lo applico su dati completamente diversi il mio modello non funziona più e quindi questo è un aspetto al quale infatti abbiamo pensato ovviamente servono dati importanti insomma per fare questo tipo di lavoro però è un qualcosa che che può funzionare secondo me può funzionare insomma quindi riassumendo sì io inserirei i genotipi però inserire i genotipi comporta potrebbe comportare un rischio di overfitting cioè che il modello funzioni troppo bene e quindi alla fine quando lo andiamo ad applicare torniamo a un'accuratezza molto più bassa quindi dobbiamo fare un po' di attenzione a quello ok grazie penso che possiamo concludere senza fare una conclusione perché tirare le somme in poche parole dei tanti argomenti che sono stati messi sul piatto sono gli argomenti del momento penso tutta l'umanità sta parlando di questo è il cibo è il pianeta è il suo riscaldamento è l'equità sociale cioè qui sostanzialmente abbiamo declinato anche il nostro far to fork se prendi tutte le righe le abbiamo messe dentro poi tutte per cui mi auspo che di questi incontri ce ne saranno molti e saranno anche magari più dialoganti che diciamo di testimonianza perché in questo momento credo capisco il tuo pessimismo perché ce l'abbiamo tutti però secondo me dobbiamo trovare un antitodo al pessimismo perché i conti intornano altrimenti è game over esce e quindi credo che la comunità scientifica la comunità dei tecnici chi si occupa di comunicazione e anche la società civile debba in qualche modo dialogare perché noi ascoltiamo ma non dialoghiamo e quando si dialoga soprattutto nei sistemi nuovi quindi parlo nei gruppi whatsapp e nei social si litigano non si parla in maniera argomentata perché non c'è il contatto fisico c'è la barriera delle unete tastiera per cui niente io direi abbiamo sforato anche oggi col tempo ma ne è valsa la pena e organizzatene ancora di queste occasioni grazie sì grazie grazie a tutti